Amici di Twitch, ben trovati, ben trovati con un nuovo appuntamento di Live Talks, oggi so che avevo annunciato Gic ma gli faccio un caro saluto di pronta guarigione dopo le macumbe di Lucio, però abbiamo un quartetto niente male, ringrazio fin da subito il nostro fantastico ospite che è Victor. Buonasera, buonasera. Ciao Victor, grazie mille di essere qui con noi. Ok, grazie per l'invito, grazie a voi. Facciamo veramente subito, così non lo sentite più, il classico momento Marchetta, così ci giochiamo i ringraziamenti agli sponsor fin da subito. Allora, ringraziamo Pull&Bear che mi ha scelto come brand ambassador e mi invia delle cosette molto interessanti, ringraziamo Amp che stessa cosa, mi invia cose nerd e io impazzisco per quelle cose. Molto spesso e soprattutto a tema patriota abbiamo fatto una bella campagna promozionale. Vi ricordo che ho uno shop Amazon facendo parte dell'influencer program dove potete trovare l'attrezzatura che uso per lo streaming e i fumetti di cui abbiamo parlato nel corso delle live salotto a tema Marvel e DC ma non solo, in pronta consegna che suggeriamo. Date un'occhiata perché ci sono veramente delle perle a livello fumettistico. Novità importante, abbiamo aperto un nuovissimo sito web, molto molto bello, che potete andare a vedere con punto esclamativo website. Invece con punto esclamativo merchandising, vedete tutto il merchandising a tema men under dude, ad esempio come questa felpa ricamata che però non è in vendita, è solo per noi che facciamo queste live, però ci sono tante altre cose molto belle. Abbiamo altri tre comandi, ricordo punto esclamativo Amazon per lo shop, punto esclamativo ospite per i riferimenti di Victor, social, e punto esclamativo quote, questa è una cosa nostra, dove vi è rappescata una frase storica a caso dal calderone delle frasi storiche, dette da noi o dai nostri ospiti durante le nostre dirette. Esatto, tipo, non so, la prima che è uscita da voi è il twerk si fa quando ha il culo, quando non lo hai non si twerca, vabbè, questa è una casaccia. Mi sembra di aver detto tutto, passo la parola ad Andrea per il lato sub, che è sempre molto convincente, vai Andrea. Tra l'altro siamo arrivati a 25 sub, che per noi è Woodstock, quindi grazie mille, grazie mille ci fa veramente molto piacere, vai Andrea. Sì, soprattutto ci dà la possibilità poi di portare appunto un qualcosa in più, nel senso di poter magari andare avanti con quello che è l'upgrade poi di tutta la strumentazione che si usa. Comunque, vabbè, mi sembra che sia la quarantesima volta più o meno che c'è questo momento Marchetta, quindi... No, non mi ti bloccare sul momento Marchetta. È un po' un'abituera. No, 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 allora, ehm... Ok, ragazzi, allora, tramite Amazon Prime potrete iscrivervi, sabbarvi gratuitamente al canale, altrimenti ha un costo di 5 euro fino a 15, mi sembra, in base al livello. I vantaggi sono fondamentalmente quello di non vedere la pubblicità durante la live, e soprattutto quando abbiamo ospiti, insomma, di questo calibro, penso sia fondamentale non perdere la parte del discorso. Il fatto di poter vedere le live anche a posteriori, quindi magari non siete disponibili lunedì, martedì, potete recuperarla. E poi gli sconti che ci sono sul merchandising di Mauro dal 5, 10 e 15%. Questo mi sembra tutto, attualmente mi sembra tutto. Ma Luca... Per ora, per ora, poi magari aggiungeremo altre cose, però per ora questo. Luca, grazie a Vittor, grazie mille. Luca, ma come... C'è un ospite che assomiglia molto a Vittor Laszlo, che si può un piacere su YouTube. Ma pensa così, ironico. No, no, ma che ironico, lui è un nostro follower storico ormai, Luca. Beh, devo dire che effettivamente mi somiglia un sacco, eh. Vero, vero. Sì, l'impersonator. In realtà abbiamo l'impersonator di Vittor stasera, non ve lo vedo. Sì, sì, sì. Vittor, official impersonator. Esatto. Esatto. Allora, quindi è lui, e passo subito la parola a Vittor, nel senso Vittor, allora, io già ti ho ringraziato. E quindi non vado oltre. Noi abbiamo un'usanza nel salotto. Noi iniziamo tutte le nostre live con gli ospiti dicendo, per chi non ti conosce, fai una breve descrizione, ti lasciamo quattro minuti. Nel tuo caso, cioè nel vostro caso di questi format, abbiamo persone molto di spicco, quindi è superflua. Però mi piaceva lasciarla cambiandola, cioè dicendo, descrivi Vittor dal punto di vista di Vittor. Cioè, come ti vedi tu? E sono un coglione, nel senso, sono uno che si è messo a parlare tanti anni fa, ormai quasi 12, su YouTube di quello che gli piaceva, che nel mio caso sono il cinema e la serie tv, e basta. La cosa mi è andata bene, è diventato il mio lavoro, e adesso sono qua. Non so nemmeno io bene come, in che modo si è riuscito, ma sono qua. E vi ringrazio, rinnovo il ringraziamento per l'invito, perché mi fa molto molto piacere essere in questo salotto stasera. Fantastico, poi noi siamo super nerd, quindi seguendoti abbiamo tantissime domande, anche riferimento a film, che a noi hanno lasciato molto la mare in bocca, e ci piacerebbe tantissimo avere un tuo parere da esperto a riguardo. Quindi, descrizione veramente breve, però la mia curiosità è, sei stato sicuramente spinto da una fortissima passione all'inizio, no? Sì, nel senso che c'è anche da fare una precisazione. Quando ho iniziato io, non esisteva ancora una vera e propria community di YouTube. Si iniziavano a formare, ad esempio, io ricordo che partecipai al concorso dei 3.000 iscritti di Yotobi, quindi anche Yotobi all'epoca era visto, ma per quanto potesse essere considerata vista tanto una persona su YouTube. Per dire che se facevi 1.000 visualizzazioni eri già Gesù, proprio eri un fico. Io seguivo Guglielmo Scilla all'epoca Wheelwash da quando aveva 3.000 visualizzazioni ai video, e per l'epoca sembravano tantissime. I Pantellas, se mi ricordo, i Pantellas li seguivo da quando avevano 600 visualizzazioni per video. Pantellas, sì, sì, era. Era proprio una YouTube diversa, era la YouTube degli inizi, era la YouTube del 2009. Si sta parlando di una YouTube diversissima, perché poi ho iniziato un anno prima, cioè io ho iniziato nel 2010 con il mio canale. Un anno prima facevo il video con un mio amico, eravamo in Mardimatta, ma era un canale, eravamo noi che parlavamo dei fatti del giorno, ma era una cacata. Però all'epoca era una cosa abbastanza diversa. Poi, parlando con mia madre a tavola, lei mi disse, ma a te che piace il cinema, perché non provi a parlare di cinema su YouTube? Ho detto, va bene, non ha tutti i torti. Ho fatto un po' di ricerca per vedere, se ci fosse già qualcuno che parlava di cinema su YouTube a livello continuativo in Italia, non c'era nessuno. Ma mezzo, eh, non c'era, a parte gli autobici, però lui parlava solo di film brutti. non c'era nessuno che parlasse continuativamente di film, insomma, di film in maniera seria, tra virgolette, cioè sempre magari dal punto di vista dello spettatore come faccio io, però in maniera, diciamo, non comica. E allora ho iniziato, io facevo, come ho sempre fatto, un video al giorno, come faccio tuttora, praticamente un video al giorno, tranne magari quando proprio non riesco che salto un giorno, ma è raro. E quindi ho iniziato, e mi ricordo che era estate 2009, girai il primo video, mi fece veramente schifo che dici, no, lascia stare. Avevo creato il canale, ma era inattivo. Poi, a gennaio, era uscito Bastare Senza Glow, no, era uscito Avatar, scusami. È uscito Avatar, e ho fatto la recensione di Avatar, peraltro, l'unico giorno, l'unica volta in cui YouTube ha fatto una recensione seria, l'ha fatta su Avatar, e io ho fatto il video lo stesso giorno, ma non conoscevo Yotobi, Yotobi l'ho conosciuto perché è arrivata sotto la gente copione. Ma copione di che? Di chi sto copiando? Ma se non c'è nessuno, chi devo copiare? Però ho capito, è iniziata così, e poi più in piano si è creata la community, YouTube è diventata una realtà sempre più grande, fino ad arrivare a quello che è oggi. Però diciamo che ho avuto solo una grande fortuna di essere stato il primo, cioè io non sono mai arrivato, non ho mai fatto niente per primo in vita mia, tranne questo. È stata la mia più grande fortuna, sì. Beh, insomma, trovare una fetta di mercato non ancora navigata è stato… Sì, però è fortuna. Cioè, sono arrivato al momento giusto, però come ero io poteva farlo qualcun altro. Però è avuto, cioè, la fortuna manchera… Cioè, sì, però diciamo che questo… Cioè, hai trovato una fetta di mercato libera su una cosa che ti appassionava, cioè, su quale ti appassionava. Allora, diciamo, se proprio devo darmi un merito, io odio darmi meriti, ma se proprio dovessi darmi un merito è stato quello di averci creduto fino all'inizio, di non aver mai mollato, perché io ho visto tante… A me è una cosa che forse è quello che più mi dispiace aver visto su YouTube nel corso degli anni, è stato vedere persone molto dotate che hanno mollato per vari motivi. Poi, per l'amore del cielo, la maggior parte di questi sono andati a fare magari quello che volevano, chi si è laureato tra l'altro il mestiere della vita e quant'altro, però è un po' un peccato, perché secondo me c'è sempre quel momento in cui devi capire cosa fare. Continuo così o mollo un po'? Io non l'ho mai mollato, ma ne parlavamo prima fuori onda, ad esempio io faccio anche un altro lavoro, sono tale manager non-network, non-network si occupa di altri YouTuber, io faccio 8 ore di lavoro per quello durante il giorno e però comunque ci butto dentro anche un video al giorno, le live su Twitch comunque durante 3-4 ore, lavoro come una bestia, però faccio quello che mi piace, nel senso che io a un certo punto arrivato ai 30 mi sono detto con YouTube mi va bene, mi mantengo più che bene, però non sai mai cosa può succedere, perché così come è esploso, metti che finisci un momento all'altro, io spero di no. Secondo me ormai è molto solido, però mi sono voluto trovare un lavoro più tradizionale, che comunque è sempre relativo a YouTube, però è pur sempre un lavoro d'ufficio, ok? È una cosa particolare, è difficile, quando devo spiegarlo a qualcuno che non si intende è un casino, perché non hanno idea di cosa stia parlando, però a livello di professione è cosa fai e lavoro, io poi lavoro quasi sempre a casa, però faccio un lavoro d'ufficio, fanno ah ok, perché se dici faccio lo YouTuber ti dicono ah, è di lavoro vero cosa fai? Poi in realtà la mia occupazione principale è quella dell'influencer, perché è da lì che viene la maggior fonte di guadagno, ma poi anche la cosa che mi occupa maggiormente proprio qua a livello di testa. Non è semplice conciliare tutto, però sono giunto alla conclusione che tra le tante cose che si potevano eliminare, forse ho scelto quella più facile, cioè il sonno. Probabilmente non arriverò ai 40 in questo modo, però comunque per ora funziona. Mamma mia. Però ci arrivo contento, non ci arriverò, però quello che arriva arrivo contento. Quanto ti capisco. Sai che hai detto una cosa molto bella, che all'inizio era così, diciamo in tutti i settori, anche il cosplay perché è il campo in cui nasco io. Ossia io ho una passione, voglio coltivare quella passione, vedo, c'è una possibilità e allora ci provo, no? Sì. Invece adesso è tutto il contrario, cioè dimmi se anche tu noti questa tendenza. Adesso c'è quella cosa ha successo, a me non me ne frega niente, però dato che ha successo, io voglio diventare famoso, mi ci butto anche se non c'ho passione. e questo si vede, cioè nei tuoi video si vede quanta passione hai. Ah, grazie. No, sì. Alcuni lo vedono solo come un lavoro, però sono bravi a farlo. Alla fine non è che, diciamo che non è obbligatorio andare su YouTube per passione. Non mi fanno impazzire le content farm. Quelle sono una cosa che io non apprezzo, però hanno trovato, sono quelle content farm, per chi non lo sapesse, sono quei canali, tipo non lo so, quei canali che ti fanno, non so, quelli che ti fanno i life hack, ok? Quelli che fanno vedere il vino che cade sul tappeto, che non si vede mai una persona, si vedono solo le mani, e ti fanno vedere come smacchiarlo, e sono evidentemente cose molto spesso che non funzionano, e che sono quei contenuti che però sono fatti, non so se avete visto come li fanno, hanno, perché sparano fuori un sacco di contenuti, hanno questi stanzoni, tipo hangar, con una marea di tavoli, con davanti a ciascun tavolo la macchina appresa con ring light, e degli operai, nel senso proprio persone, che si mettono lì e fanno queste cose inquadrandosi le mani, sono proprio, si chiamano content farm, cioè le fattorie, gli allevamenti di contenuti, proprio perché sono contenuti che sono fatti esclusivamente per business, ok, c'è anche quello, oppure magari persone che ci mettono la faccia, che hanno un canale, che semplicemente volevano crearci un business, ma non c'è niente di male in questo, cioè nessuno ti ordina di farlo per passione, secondo me, finché sei bravo a farlo, io non riuscirei a farlo senza passione, ma sono io, se uno lo fa senza passione, ha trovato il business, non vedo perché non dovrebbe sfruttare, alla fine non fa niente di male, non fa niente di illegale. No, assolutamente sono d'accordo, però quello che a me da, fa un po' storcere il naso, è quando tu lo fai palesemente per business, però dici, lo spacci dicendo che lo fai per passione, cioè, ecco no, quello, allora, capito, è pieno di, capisci che, se tu lo fai per business, se è entrato a farlo per business, non puoi neanche dire, ma sì, o a me il di voi non frega un cazzo, o lo faccio solo per i soldi, lo puoi anche fare, lo puoi anche fare, però, cioè, il punto è questo, puoi anche farlo per i soldi, ma ci deve sempre essere quella parte di te che mostra che ci tieni davvero, perché devi tenerci, farlo senza tenerci è impossibile, cioè, io ho un'idea che, se una cosa non la fai volentieri, la fai male, non la fai mai bene, poi questo mestiere è un mestiere molto di testa, se non sei convinto, cioè, se io mi mettessi a fare quello che faccio, con lo scazzo, ma non verrai seguito, perché alla gente cosa gliene frega di uno che ti parla di una cosa perché ne deve parlare, il problema di questo mestiere è che, quando poi abituì la gente a una grande frequenza, e lì sono dolori, io ricordo, c'è stato un periodo, mi ero lasciato con la mia ex, ero stato lasciato, anzi, ormai tanti anni fa, e mi ricordo che in quel periodo, c'era la gente che mi chiedeva, ma tutto bene, perché avevo proprio, si vedeva proprio che ero, cioè, non stavo bene, si vedeva che stavo male, però il problema è che, non potevo smettere di farlo, allora dopo un po' ho detto, sentite, è un periodo un po' così, non preoccupatevi, cioè, non è mai successo niente di grave, sono una cosa che mi fa star male, fine, però ho dovuto dirlo, perché, le persone se ne stavano accorgendo, cioè non è un mestiere che ti permette di star male, perché se tu stai male, che hai un problema, e fai un lavoro che so, in ufficio, in fabbrica, al supermercato, fai il commesso, sei il dirigente di un'azienda, devi lasciare fuori dal lavoro, non è semplice neanche lì, perché comunque se stai male, stai male, però un conto è, dover lasciare fuori dalla porta, quando fai un mestiere tradizionale, una cosa che ti fa star male, quando però tu usi questo, e usi il cervello, devi proprio usare la testa, per fare quello che fai, è un casino, è un casino incredibile, perché ci metti la faccia, ci metti l'immagine, ci devi mettere il ragionamento, se sei obnubilato da qualche problema, non è semplice, quindi, è un mestiere molto particolare, non è un mestiere che ti concede molte ferie, perché se poi tu punti su Twitch, per dire, e stai via una settimana, poi ti perdi tutti i sub, non è facile, tutti pensano che sia una cosa semplicissima, fare l'influencer, il creator, no, no, perché devi sempre stare sul pezzo, non ti puoi mai perdere, poi devi stare attento, perché poi magari aveva qualcuno, che parla del tuo stesso argomento, lo fa magari anche meglio, quindi devi stare anche, devi aggiornarti di continuo, devi aggiornarti di continuo, ad esempio, io c'è un periodo in cui, mettevo dei video su TikTok, così tanto per provarlo, però non è proprio la mia dimensione, ho smesso di farlo, ok, però io TikTok, lo studio molto, perché la cosa più importante per un influencer, è non sparire, cioè l'influencer deve essere presente, su tutte le piattaforme più importanti, c'è poco da fare, quindi, è importante aggiornarsi di continuo, non puoi fare il discorso del, io sono nato su YouTube, rimarrò sempre su YouTube, YouTube per me rimarrà sempre il punto di riferimento, la cosa più importante, però quando, io ormai sono tre anni che uso Twitch, perché è una piattaforma che sta crescendo, non puoi mai sapere, metti che un giorno soppianta YouTube, cosa fai? No, 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 sono d'accordo, però ti voglio fare una domanda su TikTok, nel senso, io, vabbè, ormai chi ci segue lo sa quanto sia contro TikTok, però c'è un motivo, nel senso, io vedo TikTok molto come intrattenimento trash, cioè, non vedo i follower, no, so che ci sono anche altri tipi di contenuti, però nel percepito, nell'immaginario collettivo, TikTok, balletti trash, e mi è capitato, a me avevano offerto per lavoro di aprire TikTok, mi sono rifiutato, e sono stato molto contento della mia scelta, perché poi, quando ero in selezione per un evento molto, molto importante, oltre a essere scelto, ovviamente, per la professionalità, l'accuratezza dei costumi e quant'altro, mi hanno detto, meno male, perché abbiamo scartato una richiesta di un TikTok, di una persona che va su TikTok, perché fa i balletti con un personaggio che non dovrebbe fare quei balletti, e li mette su una piattaforma trash, e non vogliamo che la nostra azienda sia associata a contenuti di quel tipo, e quindi io ho un brutto percepito di TikTok, invece volevo sapere tu cosa ne pensassi della piattaforma di TikTok. TikTok è una piattaforma che è proprio lo specchio dei tempi che stiamo vivendo, no? È il paradosso più grande, cioè, la gente non ha più tempo, la gente non vuole più perdere tempo, e allora gli dai una piattaforma dove i video durano massimo un minuto, ma poi quasi mai, durante 15-30 secondi, sono pochi TikTok lunghi, ok? E il paradosso qual è? Gli dai il contenuto breve, ma poi ci stanno quattro ore, così a scrollare come degli zombie, no? Perché TikTok ha anche questo sistema, tu esci, clicca ancora per uscire, in modo che ti cambia TikTok quando tu clicchi per uscire, magari te ne arriva uno più interessante e tu gli rimani ancora incollato lì. È subdolo, TikTok è creata per dare dipendenza, ma come tutte le piattaforme social, guarda Instagram con, ci sono nuovi post, è come una roulette, no? È come una slow machine, scorri, bam, nuovi post. Le piattaforme sono, i social, sono tutti creati per tenerti lì, accattivanti, con contenuti interessanti. i contenuti di TikTok sono quello, sono lo specchio del mondo che viviamo, la gente dice non aver tempo, ma ne ha tanto, ma lo usa male, ok? Io non trovo che sia qualcosa di sbagliato. Victor, Victor, scusami un attimo, volevo fare un, vedo in chat un po' di, 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 di mantenere in chat una atmosfera il più cordiale possibile. Quindi noi, non so se, se ci seguite o meno, però, è molto, molto, siamo molto rompi, rompi scatole su questa cosa, quindi, è anche poco tolleranti. Non, io ringrazio dei complimenti che, che sto vedendo. Dopo qualche commento, qualche domanda, sicuramente le domande, soprattutto le domande, le, le, ci focalizzeremo l'attenzione, però non possiamo, ogni commento, interrompere, eh, quello che stiamo dicendo, perché se no, ovviamente il discorso non, è anche brutto. Quindi, eh, chiedo magari un po' di comprensione, un po' di, eh, buonsenso, e questa atmosfera di, di lasciarla il più serena possibile, anche perché vi ho detto, io adesso ho fatto questo intramezzo, però ci sono i moderatori che hanno, eh, precise direttive di essere, veramente, col, col pugno di ferro, perché ci piace che l'atmosfera sia più serena possibile, quindi se, se, se non siete quel tipo di follower, per, per me, eh, potete anche andare altrove, scusami Victor, però, io, io sono molto anti, eh, antinumeri su queste cose, nel senso, mi piace che ci sia rispetto reciproco, è, è una bella atmosfera, scusami se ti ho intervinto, vai Victor. No, stavo dicendo, che per l'appunto è questo il fatto, TikTok adesso è questo, no? È il contenuto facile, avere tanti milioni di, eh, follower e visualizzazioni su TikTok, però, allora, sì, la gente, mh, riconosce TikToker, e molti TikToker riescono a viverci, e quant'altro, il problema, i problemi sono due, eh, quello che lascia un TikToker, tende a essere, più volatile, perché sono contenuti mordi e fuggi, sono dei non, cioè, non, ma non lo dico con cattiveria, non contenuti nel senso che sono contenuti molto brevi, ma molto anche fini se stessi, ogni contenuto volendo è fino a se stesso, anche una recensione può essere fino a se stessa, per l'amor del cielo, però, ha capito, la traccia che lasciano, magari lasciare più il, fatto che il TikTok ti distrae, e quindi, sono comunque intrattenitori, io ho grande rispetto per il TikToker, però, l'altro problema, è che sì, è vero che ci sono anche adulti su TikTok, però, diciamocelo, l'utenza maggiore è ragazzini, io vorrei capire il ricambio, c'è ricambio dell'utenza di TikTok, cioè, TikTok mi dà l'idea della classica piattaforma, che non può, fisiologicamente, perdurare nel tempo, anche perché, secondo me, tra un po', verrà soppiantato dei reels su Instagram, che sono la stessa cosa, ma piacciono anche agli adulti, perché trovano più contenuti adatti a loro, Instagram ha il dovere preciso di fagocitare tutti i social, quando ha copiato le storie da, insomma, le storie da Snapchat, tutti, ah, che sfigati, copiano, copiano, com'è andata a finire? che le storie su Instagram hanno, che erano una copia di quelli di Snapchat, lo hanno mangiato, è ancora usato in Stati Uniti America, per l'amor del cielo, ma non è assolutamente al pari di Instagram, all'inizio Snapchat sembrava la rivoluzione, Instagram ha messo le storie, i reel, all'inizio duravano 15 secondi, adesso non dura 30 secondi, ancora sono buggati, quando li sistemano, secondo me, pian piano, l'utenza, che prima guardava TikTok, si sposta su Instagram, perché lì i reel offrono contenuti più fruibili anche dagli adulti, molto spesso, all'inizio erano quasi tutti i contenuti TikTok ricaricati su Instagram, adesso ne vedi di meno, adesso sono quasi, la maggior parte sono reel creati per la sezione reel, è fisiologico, è completamente fisiologico, cioè non è come l'Instagram TV che è andata, ma non come volevano loro, qua si parla di un tipo di copia, tra virgolette, che è integrata al social più potente del mondo, quando i ragazzini crescono, secondo me, non usano più TikTok, tanto i reel sono su Instagram, se sei su Instagram per farti i fatti tuoi, li vedi comunque, quindi, non adesso, però secondo me, nell'arco di un annetto, iniziamo già a vedere uno spostamento, poi magari mi sbaglio io, però io non ho niente contro TikTok, è un social, come tanti altri social che arriveranno, ci sono quelli che ti sembrano delle cagate, TikTok inizialmente sembrava una cavolata, poi invece è diventato forte, ma secondo me è una tigra di carta, TikTok, cioè sembra tanto forte, ma non ho l'idea che non durerà, più di tanto, vorrei ricordare, cioè poi tra altre cose, una cosa che mi ha sempre fatto ridere, è il fatto che la gente veda TikTok come una rivoluzione, ma io dico, ma tutte queste persone, quando c'era Vine, ma dove erano? altro social che è stato ammazzato da Instagram, Instagram lo ha ammazzato, Vine ha chiuso, non c'è più Vine, ha ammazzato, ha ammazzato completamente da Instagram, stessa cosa, TikTok ci vorrà più tempo, ma alla fine io penso che rantolerà anche lui, ma non lo dico con cattiveria, cioè ripeto, io non ho niente, cioè secondo me, rispetto per i creatori contenuti su TikTok, perché alcuni sono veramente bravi, io rispetto i creator di qualunque piattaforma, perché per fare questo mestiere, ci vuole capabilità, e quindi riuscire a diventare, a fare del proprio lavoro, una cosa del genere, sfruttando la popolarità che certi video hanno presso la propria utenza, diciamo che richiede una mentalità imprenditoriale, e quindi io rispetto i TikTok da quelli più piccoli, anzi tanto di cappello, che ci sono ragazzini 14 anni che hanno fatto una roba del genere, ragazzini 14 anni con milioni di follower, ma tanto di cappello veramente, io gli auguro che duri per tutta la vita, la sensazione che ho io è che TikTok non andrà a durare tantissimo, però magari mi sbaglio io, può essere. Ok, alla fine è come lo senso, no, che era nato, è stato anche quello assorbito dalle storie Instagram alla fine. Sì, magari poi no, magari poi TikTok si dimostrerà solidissimo, non lo so, però è un, secondo me è un social, che proprio per sua natura, scricchiona le fondamenta, quanto potrà andare avanti questa cosa del social basato su contenuti così brevi, dopo un po' è ripetitivo, stufa, tra l'altro, altra cosa, altra cosa, TikTok ha lo stesso problema, che poi non è un problema, però ha la stessa cosa di Instagram. Instagram ormai da molti viene usato come alternativa a certi siti dedicati al piacere autarchico, diciamo, perché girano sempre più foto di nudo, quanta nudo, sempre censurato, però, ma perché? Perché, a parte il fatto che io trovo che non ci sia niente di male, cioè io vedo tantissime, io guarda, vedo un sacco di modelle, ok, che fanno foto molto esplicite, che vengono insultate, ah, come ti permetti, ma cosa dicono i tuoi genitori, ma che ti frega, sta mica facendo niente di male. No, io è una cosa che non capisco, però ho notato, che questo tipo di contenuti sono diffusissimi, su Instagram, su TikTok, perché? Perché il vedo non vedo è molto più eccitante del nudo e dei contenuti più espliciti. Il problema è che secondo me sta un po' divorando quello che sono questi social, lo sta un po' divorando. Io noto nei commenti a TikTok un sacco di genitori che dicono, eh, però queste porcherie, qua ci sono anche le bambine, giustamente dicono a tuo figlio, se tuo figlio non guarda questo tipo di contenuti, vai tranquillo che l'algoritmo di TikTok teoricamente non glieli fa arrivare, se li vede, perché vuol dire che ne ha già visti altri dello stesso tipo. Certo. E questo, sì, e questo è il fatto. Quindi in realtà, eh, nessuno fa niente di male, però, noto che TikTok ormai è sempre più affollato da contenuti di questo tipo, ed è successa la stessa cosa a Snapchat, che a un certo punto veniva usato soprattutto per quello, veniva usato molto anche dalle attrici hard Snapchat, prima che arrivassero gli fans. Quindi, devono stare attenti, non a limitare i contenuti, ma a differenziarli il più possibile, perché altrimenti rischia di diventare una piattaforma dove va solo gente che vuole vedere belle ragazze, bei ragazzi, fregandosene del contenuto, eh, ulteriore, del contenuto diverso. È stata la sorta di tanti social che sono spariti poi. Devono stare attenti a quello. Ok, ok, chiaro. In chat, Magrelli dice, buonasera occhia Instagram che sta mettendo la monetizzazione anche nelle dirette con la possibilità di supportare i creator con abbonamenti. Non so se ne avete già parlato. Ma da noi c'è già questa cosa qui, perché non ce l'hanno tutti, se non erro. Ma io non lo sapevo. Poi Instagram ha quel limite incredibile di un'ora di diretta e poi ti blocca e poi devi ricominciare. Cioè, secondo me Instagram è quello meno user friendly per le dirette. Ma poi sai, la diretta da telefono con un audio che non è mai, non c'è, poi, allora va bene per, il punto è questo, secondo me ora come ora se devi fare delle dirette Twitch è la cosa migliore. È la cosa migliore perché, non che YouTube non vada bene per le dirette, va bene, però YouTube non è nato per i video. Cioè non è nato per gli streaming, è nato per i video. Twitch è nato con il preciso scopo di permetterti di streammare. Va da sé che l'ottimizzazione è maggiore, è molto più semplice su Twitch. È molto più intuitivo. Il piccolo mercato viene distrutto. Il piccolo mercato così viene distrutto da Instagram perché se inizi a integrare tutto, è vero, la live la fai su Twitch, i video li carichi su YouTube, ma se io inizio a integrare TikTok, Snapchat con altri nomi, però in realtà... Sì, vabbè, ma i risultati sono quelli, c'è i reel, ma io non so voi, ma chi... Sì, però c'è da dire una cosa, no? C'è da dire una cosa. Su Twitch hanno, sono molto lungivinanti. Se sei partner di Twitch, Twitch tu non puoi fare dirette altrove, neanche su Instagram. Perché? Ti dici, ma cosa te ne frega? Perché sapevano perfettamente che prima o poi sarebbe arrivata questa possibilità. Io personalmente, ti dico, se diventa anche conveniente, le farei anche su Instagram, se si potrebbe... Io sono partner su Twitch, quindi non le farò su Instagram, ma è ovvio che se Instagram diventa il top per le dirette, la gente si sposta lì, perché... Cosa devi fare? Io francamente la vedo molto dura, perché sono live fatte col telefono. A meno che non la mettono anche per desktop, con le stesse funzionalità di Twitch, ma ti voglio. Ora che lo fanno, sono passati vent'anni. Secondo me non giusto. Sì, anche perché, insomma, consideriamo sempre che Instagram comunque fa parte della grande casa Facebook, quindi è un'azienda, sì, abbastanza grossa, però che ha già superato i suoi dieci anni di vita, no? Che sono quelli classici per un social. Dieci anni basta, dieci anni basta, dieci anni basta, quindi è un po' difficile. Beh, basta vedere Facebook. Facebook ormai non... Cioè, sì, lo si usa, ma è morto. È morto, sì. Cioè, no, è morto. Morto magari no, però non è più, cioè, non è più il social di riferimento. Ormai il social di riferimento è Instagram. Ma guarda che tra un po' arriverà un altro social che sarà il social di riferimento. Niente dura per sempre. YouTube sembrava incrollabile. È arrivato Twitch? Migrazione. Addirittura gente che ha smesso con YouTube e ha iniziato con Twitch. Io non lo farei mai. Io non toglierei mai YouTube. YouTube. È certo. YouTube a me è una cosa che sono delle cose comunque diverse. Diciamo è anche una sorta di core business YouTube, no? Assolutamente. Per me sì, nel mio caso specifico. Esatto. Quindi... 100%. Però è bella questa cosa che ti studi meticolosamente anche le altre opportunità di social che gli altri social... Sì, perché ripeto, l'influencer dovrebbe avere il preciso compito di non sparire dai radar dell'utenza. Io ho visto persone che non riuscivano a crescere su YouTube, si sono spostate su Twitch, pam, botto. Perché funzionavano di più in live rispetto che in video. C'è un posto per ognuno, io sono convinto di questo. Magari gente che non saprebbe fare video su YouTube, dirette, eccetera, va su TikTok e scopre una dimensione tutta nuova che gli è confacente e esplode anche lì. Può essere. Ok. Mi sembra... Luca Cepolletta90 ti chiede cosa è meglio secondo te tra Instagram, TikTok o Facebook? Guarda, secondo me non c'è un meglio. Non c'è un meglio. Perché alla fine Facebook è stato molto forte per anni. Poi è arrivato Instagram che l'ho soppiantato e Instagram va benissimo per passare del tempo così a guardare foto. Alla fine è una cosa che puoi fare... Sai, uno social specifico per le foto è una cosa comunque diversa rispetto a Facebook. Eppure è riuscito a soppiantarlo. Tanto però è sempre loro, quindi sai che gliene frega. TikTok, come dicevo prima, è una cosa ancora diversa. TikTok lo vedo come più... TikTok è più ammaliante, capito? Ho del tempo libero, ho 20 minuti. Cosa faccio? Mi guardo un video e mi guardo qualche cagata su TikTok. Cagata nel senso... Non per denigrare... Aspetta, non per denigrare i contenuti su TikTok. Sì, sì, assolutamente. Nel senso... Da chi ho sentito molto cosa in faccia mi guardo qualche cagata su TikTok. Poi non sono cagate. Sono anche... Molti di quelli sono video per cui ci si mette molto tempo a discapito della durata breve. Perché è facile dire... Ci sono i TikTok un pochino più alla buona e i TikTok sono veramente studiati bene. quindi mi guardo qualche... Qualcosina sui TikTok, capito? Però contenuti che magari non ti rimangono in testa, no? Li vedi, ti passano davanti, ti passano davanti, ti fanno passare il tempo. È quasi una droga da quel punto di vista. È studiato per essere quello alla fine, per essere una... Qualcosa che ti crea la dipendenza, come si diceva prima. Sì, sì, sì. Come espori su Instagram. Io sinceramente non riesco a prenderlo sul serio una piattaforma come TikTok. Cioè ci sono tanti tipo Monti, no? Ne parlavamo con Andrea. Che offrono veramente cose interessanti, però secondo me si perdono molto all'interno del marasmage. Cioè a me... No, no, dipende. Dipende anche se l'algoritmo funziona in maniera strana. Io ti dico, secondo me, ok, è un social molto furbo. Perché è proprio... È la massima espressione del diventa famoso così. Che poi non è mai così. Perché non è mai così. Non diventi mai famoso, poi famoso. Io so di dire... La fama per me è altro. Ma parlo anche per me? Cioè quando mi dicono che sono famoso dico, ma dove? Parlo soprattutto per me. Io poi tante cose su YouTube non è che ho un miliardo di iscritti, un milione di iscritti, no? 200... Perché mi va bene. Per il mio ambito sono anche tanti. Però da lì a dire sono famoso, calma. Però ho capito, su TikTok c'è gente che... Lì è veramente famosa, milioni di iscritti, ma non è così. Perché sembra sempre così. Prende il telefono e faccio TikTok. C'è uno studio dietro. Cioè per funzionare su TikTok tu devi aver capito perfettamente cosa vuole l'utenza. Non è semplice. Non è assolutamente semplice. Io ci ho provato. Io su TikTok ad esempio non funziona. Mi sono reso conto. È troppo distante dalla mia forma mente TikTok. Quindi io... È per quello che io stimo che riesce a costruirsi una carriera su TikTok perché è molto più difficile di quello che sembra. Molto più difficile. Assolutamente. No, no, no. Quello non lo metto in dubbio anche perché a parte rarissimi casi, no? Dove è solo questione di fortuna molto spesso dietro... E adesso parlo... Cioè uno YouTube fa un lavoro... Uno YouTuber fa un lavoro incredibile secondo me perché una volta per diletto mi sono messo a montare un video ma ci ho messo tipo dieci ore è venuta una schifezza e neanche l'ho pubblicato. Cioè quindi immagino Victor tu quanto tempo debba dedicare a un montaggio professionale a comunque dire... Non è facile. No, ma molto spesso nell'immaginario collettivo eh vabbè si mette davanti nei due camera a fare video ma non è assolutamente così. Trovare un conten... Io ad esempio io metto un video al giorno trovare un contenuto al giorno poi io parlo di cinema i cinema sono chiusi da... E da ottobre che c'è stata... Io quest'anno ho fatto... Il canale ha avuto un'impennata incredibile pur essendoci stati in un anno almeno sei o set... No, di più. Sì, sette mesi di sei sette mesi di cinema chiusi perché c'è lo streaming però ho capito ti devi anche reinventare io mi sono... Ho dovuto in tempo zero capire come trasformare il canale in quel periodo lì. Devi farlo con una lucidità anche devi capire subito cosa fare. Non escono film che interessano a tanti benissimo inizia a fare le classifiche inizia a approfondire questo aspetto queste notizie che sono uscite devi... Il canale è leggermente cambiato meno recensioni più contenuti generici sul cinema magari più classifiche di un'ora ma in cui parlo di 20 film e la gente è contenta. Capito? Continua a fare le recensioni però ovvio che meno roba esce perché poi magari esce roba ma è meno interessante la recensione perché è roba che sì, va bene da guardare in quel momento ma non interessa molto a livello di opinione ok? E allora devi selezionare i contenuti è difficile non sono usciti blockbasteroni a parte qualche film quindi io ho dovuto all'improvviso adattarmi alla situazione non è semplice lì era un attimo sbagliare e andare e crollare dall'altra parte quindi ho avuto lo stesso problema lo stesso problema poi dei cinema a tutti gli effetti no? perché un canale come il tuo che comunque sia naviga su film in uscita come un cinema che investe tanto in un certo senso per la promozione di quel film poi si ritrova il film posticipato annullato roba del genere ma hai ragione è difficilissimo però lo fai cioè bisogna sapersi adattare con la quarantena questi business digitali sono cresciuti perché la gente si metteva a guardare TikTok Twitch YouTube e quant'altro ma bisognava cercare di capire come c'è capito io mi basavo sulle uscite dei cinema mi chiudono i cinema che faccio allora io subito eh beh no ma io subito ti faccio un esempio immediatamente appena hanno chiuso il cinema io tipo il giorno stesso ho fatto c'era un video in cui consigliavo quali film guardare su Amazon Prime Video Netflix con la chiusura di cinema proprio rapido devi essere velocissimo devi cambiare esattamente la velocità con cui cambia la tendenza subito cioè chiudono i cinema ma a me è venuto un po' il panico che cazzo faccio aspetta consiglio da guardare sul sì lo faccio io il cinema e non è facile nel senso no no è molto difficile no vabbè Lorenzo ha regalato la sub a Stark scusa Vittor ma fa ridere perché te la Mr. Stark è un impersonator e così gli faccio anche la marchetta di Robert Downey Jr e penso una delle persone che ci odia più di tutti anche se lui dice che ci ama quindi sto scherzando allora Vittor senti noi siamo cosplayer prevalentemente Marvel e DC e adoriamo tutto quello che riguarda fumetti Marvel e DC quindi adesso io lascerei magari una domanda se vuole farla Andrea o Lucio e poi mi interesserebbe tantissimo sapere la tua opinione su alcuni cinecomics di cui discutiamo abitualmente su cui ci lanciamo padellate a vicenda in quanto siamo in totale disaccordo molto spesso vai avete fate la vostra domanda Andrea e Lucio vai Lucio vai Lucio che vado io non so quanto stai fremendo vai prego prego diciamo che l'ha fatta partire la tendenza anche Geek nei commenti stesso vabbè quello si parla dopo dai della Schneider Cut quello è un argomento di queste cose cioè rientra nei cinecomi nel giudizio sui cinecomics parliamo dei miglior Batman niente Lucio è già partito che vuole andare su ha già un ha già un tanto ha già capito apriamo il vaso di Pandora allora primo film per me il vaso di su per me per me uno dei peggiori film superioristici di sempre la Justice League no Justice League a me è piaciuto da morire ah ok io sono uno dei 12 in Europa che è la mano del film siete così tanti eh Justice League ma io lo so che non è un bel film oh però mi ha divertito non so io addirittura per la Schneider Cut impazzito io pensavo che parlavi di Batman v Superman perché Batman v Superman è un no Batman v Superman per me è orripilante perché Schneider Schneider dovrebbero prenderlo e allontanarlo il più possibile da tutto ciò che è DC ed è un paradosso perché ad esempio lo Schneider Cut lo voglio vedere sono curioso probabilmente mi farà cacare perché a me tutto quello che Schneider fa tipo io Man of Steel quando è uscito Man of Steel io lo stavo schiumando io gli dicevo ma come ma come fai ma come io dico posso chiederti una cosa Victor ma anche la stessa cosa vale per Watchmen no 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 io parlo dei Super no hai ragione perché anche quello è DC no 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 è sì è DC però io parlavo personaggi classici ah ok Watchmen Watchmen è sempre stato apprezzato a un certo punto è una schifezza ma perché è perché è brutto perché di Schneider ragazzi Schneider io a me spiace che Schneider venga maltrattato così tanto mi rendo conto che lui non è che fa molto per farsi trattare diversamente perché è pieno di sé da fare schifo uno che ti dice sono lieto di aver salvato Watchmen da tutti i terriglia nel mondo si è bevuto troppo vinello c'è posa il fiasco ma come ti permetti però allo stesso tempo ad esempio io il suo l'albero è morto di 20 lo trovo divertentissimo me lo guardo 20 volte all'anno e io mi diverto come un matto io lo so che a quel punto è questo l'errore che fa la gente fare ma come ti permetti di fare il remake del film di Romero con quello schifo ma è abbastanza chiaro che sia solo marketing perché col film di Romero c'è solo il centro commerciale in comune ma è ovvio che non voleva secondo me Snyder neanche voleva fare il remake del film voleva fare un film sugli zombie gli universi ha detto fai il remake di Romero e vabbè facciamolo che poi tutti si incazzano con Snyder per quel film perché gli zombie corrono capito? ma la sceneggiatura di James Gunn Snyder ha diretto i film che l'ha scritto però si incazzano tutti con Snyder incazzatevi con James Gunn no perché ha diretto i Guardi della Galassia ed è della Troma quindi non è toccabile perché ti arrabbi con il regista? cioè la cosa che fa incazzare tutti è i zombie corrono come si permette ho capito ma non c'entra con la regia c'entra con la sceneggiatura ma incazzati con chi l'ha scritto ma perché ti incazzi con Snyder? però Il Regno di Gaol quello animato Sucker Punch che come film non è niente di che però è un videogiocone a me piace un casino cioè è tutta estetica quello lo metti ti metti sopra un pezzo di Black Sabbath che ti copre l'audio e te lo guardi così tu lo guardi bisogno di capire la storia che te frega Watchmen io lo adoro a me è piaciuto da morire Watchmen ma proprio tanto sono d'accordo con te su Watchmen nel senso a me è quello che è piaciuto veramente tanto di Watchmen è che essendo un amante di fumetti raramente tu vedi un un seguire un adattamento così tanto vicino alla controparte fumettistica è proprio è quasi quasi shot for shot assolutamente io questo l'ho apprezzato veramente tanto perché di solito quando si parla di Marvel Odyssey sono tutte ispirate ai fumetti però c'è qualche richiamo qualche easter egg ma sono comunque molto spesso storie a sé invece Watchmen c'è stato veramente un tentativo secondo me da parte di di Schneider di dare veramente lustro al fumetto cioè di omaggiare il fumetto Schneider ha usato come banco di prova un altro film prima di Watchmen che era praticamente shot for shot che è 300 che è la più grande tamarrata ignorante della storia del cinema e io ogni volta che lo guardo non ce la faccio se vedo con quel film io mi diverto tantissimo con 300 è una vaccata clamorosa però esteticamente per me era tanta roba per l'epoca e va bene così Watchmen era molto era anche più difficile da fare i 300 perché cazzo Watchmen era difficile tra l'altro tra l'altro non so se lo sapete chi ha scritto il film perché tutti pensano che sia di Schneider Schneider non scrive scrive raramente le sue sceneggiature la scritta in ultimi anni ma in realtà il film è stato scritto da David Heiter il doppiatore di Solid Snake l'ha scritto lui il Watchmen l'adattamento non lo sapevo sì l'ha scritto ma io ti giuro quando l'ho scoperto ha detto ma perché ma quando l'ha fatto lui era quel David Heiter e lui praticamente David Heiter ha avuto la lungimiranza di fare la cosa migliore cioè lui ha cambiato il finale molti ma come ha osato cambiare il finale ma è una cazzata traviso tutto io ci scommetto quello che vuoi che se avesse messo il finale del fumetto la gente si sarebbe alzata in sala perché nel fumetto funziona in un film tu stai guardando il film e all'improvviso ti vedi quella roba lì pensi ma cosa sto guardando ma cosa cazzo c'entra sta roba alla fine cinematograficamente era impossibile diverso è per la serie tv perché la serie tv è basata sul fumetto al 100% e quindi avevano detto preparatevi perché è molto legata al fumetto continuano a dire è molto legata al fumetto sicuramente terranno la cosa che succedeva nel finale infatti nella prima puntata ti fa capire che quella cosa che accadeva nel finale di Watchmen la serie in seguito è successa e non non sai se ti verrà mostrata ma hai capito che si tiene conto di quella cosa ma sono onesti fin dall'inizio tu lo vedi già nella prima puntata se tu quella cosa te la fossi trovata negli ultimi dieci minuti di film io da spettatore ho detto ma cos'è sta roba perché ricordiamoci che non tutto quello che funziona sulla carta stampata funziona allo stesso modo anche sullo schermo purtroppo in un film secondo me era sbagliatissimo metterlo e infatti se non l'hanno messo secondo me un grande vantaggio quel film è che pur essendo del 2009 quindi io sono abbastanza fissato con VFX e CGI quindi mi interessano molto quando vedo un film beh Watchmen riesce a essere secondo me un buon prodotto anche senza avere un grandissimo studio dietro dell'effettistica perché sì ad oggi riguardandoli sono un po' bruttini nel 2009 ti posso dire che io riguardandolo recentemente trovo che il dottor Manhattan invece sia ancora molto credibile era un attimo preferisco il suo preferisco il dottor Manhattan visto nel film piuttosto all'omino di Pongo blu visto nella serie TV in realtà secondo me nella serie è figua nella serie secondo me è fighissimo però mi piace di più nel film questo poi ma lì se la sono giocata perché è un Manhattan un po' diverso mentre invece quello del film è quello del fumetto né più né meno e secondo me l'hanno fatto benissimo poi Billy Crudo un bravissimo attore hanno scelto bene secondo me concordo la scena la scena trescissima di quando c'è il rapporto fra Gufo Notturno e te lo vedi anche lì la scena è trescissima però non è diversa rispetto molti hanno detto ma dai anche con la sfiammata alla conclusione però è esattamente esattamente come nel fumetto qui se ti lamenti tu dici come poi funziona per me era una cresciata pure nel fumetto secondo me nel fumetto e nel film si sono risparmiati i loro due che alla fine si mettono lì dopo che è successa la cosa di Adrian si mettono lì a zompare nel fumetto io ero lì che dicevo ma scusa ma adesso potete aspettare un attimo cazzo è Moore Moore ce le mette queste cose quindi ci sta quindi ricapitolando Watchmen sì Justice League sorprendentemente sì Batman vs Superman no un grandissimo no no perché il problema di quel Batman vs Superman è che allora a me dà fastidio quando ho certi film si prende dannatamente serio è di una stupidità clamorosa cioè allora il punto è molti dicono ma c'è gente che non ha capito la scena di Marta ma io ho capito cosa volevano fare con la scena della madre volevano far capire che sono entrambi uguali ma porca puzzola dico io ma possibile cioè per chi in punto di morte dire si riferirebbe alla propria madre col nome di battesimo Superman non sapeva che la madre cioè che cacchio ne sa che nominare che il fatto che le madri si chiamino con lo stesso nome gli fa scattare qualcosa non ha senso questo un secondo prima vuole ammazzare un secondo dopo va dalla madre dicendo sono un amico di suo figlio ma davvero sto cacchio di tizio strizzato in sto costume vabbè non voglio dire cose che potrebbero essere bannabili ma dai è credibile con una banconata a 3 euro Ben Affleck è perfetto come Bruce Wayne ma è un Superman terribile peraltro un Superman che spara ammazza allora secondo me il film ha più senso nell'ultimate version l'ultimate version fa sempre schifo però perlomeno io quando ho visto l'ultimate edition ho pensato ma sono stupidi ma come hanno fatto cioè nell'ultimate edition cioè tu nel film non capisci perché Batman e Superman si affrontino nella versione cinematografica quando tu guardi l'ultimate edition ti rendi conto che si affrontano perché l'ex Luthor ha pagato i carcerati della prigione per ammazzare tutti quelli che hanno il marchio di Batman e quindi Superman dice questo sta mandando a morire la gente a parte il fatto che è vergognoso che tu mi prendi Batman e lo rendi uno che manda la gente a morire e non gliene frega niente ma quando mai a me non mi frega niente che è una reinterpretazione perché anche il Batman di Tim Burton non si faceva problemi a mettere una bomba addosso a un tizio e ucciderlo però era un tizio con la faccia da teschio era quasi deumanizzato era comunque un essere umano però quella era una reinterpretazione autoriale che peraltro si prendeva sul serio fino a un certo punto era molto grottesco il Batman di Burton sia il primo che il secondo il secondo in particolare quello di Snyder voleva farlo pseudo realistico a parte il fatto che ad esempio non lo so Gotham e Metropoli sono proprio in una faccia all'altra e dici ma da quando cioè sono Metropoli si è letteralmente dall'altra parte del fiume e dici vabbè ok ma poi ma poi voglio dire anche tutto il finale cioè cosa mi significa fare quella cosa e mettermi in quella scena proprio l'ultima inquadratura prima che finisca il film ma che senso ha per poi ripristinare la situazione nel film dopo ma perché ma che hai appena iniziato l'universo e fai già quella cosa lì a Superman ma ma veramente ma che ma con con che cioè non lo so giuro io non per me è assurdo allora questo è chiarissimo Victor però adesso io sono molto curioso di capire di contro il perché ti sia piaciuto Justice League ecco ottima domanda io sono sempre stato molto più un lettore di Secret che un lettore Marvel ok e io aspettavo molto di più un film sulla Justice League che un film sugli Avengers vederli tutti insieme in quel modo a me io sono tornato bambino è proprio cioè io obiettivamente lo so che non è un bel film mi rendo conto è un film veramente scritto anche male ma lì proprio l'ho visto con gli occhi del bimbo quindi riesco a scendere le due cose come film so perfettamente che non è un bel film ok ma per me è divertimento puro a me ammazzato a me piace cioè la scena che quella peraltro è di Snyder quella scena lì quindi una l'ha imbroccata la scena di Flash che corre vicino a Superman con Superman in slow motion che si gira e lo vede io stavo fangolando stavo fangolando l'avo come un porcellino non riuscivo lo so il film non è bello però mi ha divertito come un matto è quasi nazionale come cosa come quei confronti che tu ti sogni da bambino appunto sì è stato un film molto buttato sul divertimento quando in realtà l'unico diciamo membro della Justice League che dovrebbe essere più Hillary che era Freccia Verde non c'era ma però un'altra cosa sai perché mi è piaciuto la Justice League perché per la prima volta vediamo che interpreta il vero Superman non un pirla sempre con la faccia col broncio hai sempre col broncio c'è sempre il broncio nei film di Snyder finalmente vedi Superman che sorride che non c'è un pensiero al mondo che vola tranquillo e felice quello è Superman quello è Superman finalmente dopo anni vediamo un Superman di ogni tale nome già solo per questo il Superman della serie della serie raga io lo so che adesso ma accidete però per me il Superman di Reeves c'è un posto nel mio cuoricino no per forza perché guarda è dai tempi di Reeves che non vediamo allora il Superman della serie della di Supergirl è interessante ma è un Superman comunque si vede che è televisivo ok quindi sì non è male cioè comunque la prima apparizione del Superman di Supergirl è 20 volte più Superman di tutto quello che aveva fatto Kevin prima dei Justice League Super ma poi cosa ti viene in mente di fare Super Man of Steel stesso discorso di Batman e Superman cioè Jor-El che è il tizio che costruisce le astronavi cioè no è il tizio che ti costruisce le astronavi viene a dirti guardate che ho fatto degli studi il pianeta sta scoppiando ma non dire cazzate ma gli costruiscono le astronavi voi non sapete neanche montare un tostapane ma date allora faremo la cosa più intelligente di tutte prendere Mil visto che dice che il pianeta esplode prendiamo i più grandi criminali di Krypton e li mandiamo lontani dove possano salvarsi ho capito che è così anche nel fumetto ma la messa in scena è stupida è stupida cioè questo ripeto questo che costruisce l'astronavi è il più grande ingegnere inventore che Krypton abbia mai avuto e ti sta dicendo che secondo i suoi studi il pianeta esplode no ma come no ma che cazzo c'avete nel cervello però secondo me è assurdo però non lo so ma poi quel film lì è tutto assurdo c'è un Superman c'è anche lì la scena del padre di Jonathan Kent ma quanto è stupida che muore lì sotto la bufera per salvare il cane ma ti prego ma che ma dai ma che roba brutta usare così Jonathan Kent peraltro lui si è fatto si è lasciato morire perché il figlio non voleva perché non voleva che il figlio che il figlio si mostrasse e il film inizia come proprio letteralmente l'inizio del film è lui che si mostra mentre solleva una petroliera e per cosa è morto quel povero Cristo no io in sale dicevo ma cosa sto guardando ma perché Victor adesso colgo l'occasione che ho visto una domanda al volo adesso che io faccio spesso ed ho fatto anche la scorza live a Alessandro Bottero che è un editore Playpress e traduttore di testate fumettistiche del calibro del ritorno del cavaliere oscuro di Batman lo conosci? ok e gli ho fatto questa domanda chi è? ok e gli ho fatto questa domanda che di solito faccio su cui ho una mia idea che lui mi ha smontato però non sono ancora molto convinto è più cioè secondo te in una battaglia tra Superman e Patriota chi ha la meglio? e perché? Patriota perché non gli fa la cortesia io Superman Superman non lo ammazzerebbe mai Patriota sì a parità di sono lo stesso personaggio sono lo stesso identico personaggio la differenza il punto è Patriota se vogliamo è praticamente Zod è uno Zod un po' più forte perché alla fine sono due Kriptoniani quindi teoricamente secondo me Patriota è più psicopatico però anche lì è talmente psicopatico che potrebbe cominciare degli errori Superman è più lucido quindi se è super cioè il punto è quello in uno scontro del genere deve per forza ammazzarlo io infatti in Man of Steel sono d'accordissimo che Superman ammazzi Zod tutti dicono è indegno no perché lo ammazza piangendo lui non vuole ammazzarlo ma ha capito che non può fare altrimenti quindi o abbiamo un Superman che è disposto a ammazzarlo oppure vince Patriota secondo me io sono completamente d'accordo con te anzi ti dirò di più cioè Patriota non ha debolezze fisiche Superman ha quella della Kriptonite Verde cioè nel senso Patriota se si rimedia un piccolo pezzettino di Kriptonite Verde sa cioè non si fa scrupoli un secondo no ma noto che in certo qualcuno dice Superman è una forza maggiore ma secondo quale base scusami dove l'han detto dove l'han detto poi lo dice J Daru che io e lui abbiamo avuto discussioni infinite su sta cosa è lo stesso identico personaggio adesso lui ti prende le statistiche di forza 95 ma quali su quale base non esiste una base scientifica per fare il raffronto però invece Bottero sosteneva che per lui vince Superman in quanto è tutto vero quello che stiamo dicendo ma Patriota ha una psiche talmente labile che qual'era la motivazione era la psiche cioè il fatto di avere una psiche talmente labile è un comportamento da bambino non cresciuto psico bullo che in qualche modo Superman ne avrebbe tratto vantaggio per per vincere io penso di no perché ha una psiche devastata Patriota ma intelligente e quindi la prima cosa che farebbe sarebbe iniziare a ammazzare civili quindi lo metti in crisi in quel modo basta basterebbe anche solo far crollare un palazzo dove c'è della gente Superman andrebbe a salvarli quindi approfitta la distrazione e lo secca Superman se in uno scontro il nemico inizia a ammazzare civili lui si sposta e li va a salvare basta solo quello lui non si fa problemi a ammazzare la gente l'abbiamo visto poi nella famosissima scena con l'aereo nel senso lui non si fa problemi quindi quella è la più grande debolezza di Superman lui la sfrutterebbe sicuro al 100% assolutamente invece il ragionamento strategico e riappatriato è stato io non posso salvarli perché la fisica non me lo consente cioè quello che vediamo in Superman è una stupidaggine almeno in The Boys che non è possibile quindi il piano cambia io che faccio faccio morire le persone e lo sfrutto a mio vantaggio in modo tale da entrare nell'esercito Superman avrebbe provato a salvarli non li avrebbe mai lasciati morire deliberatamente la debolezza di Superman è quella che è buono quanto concordo con te bellissimo ma lo vedi con Zod lui che non avrebbe mai ucciso nessuno ammazza Zod in meno still perché stava per ammazzare delle persone e quindi il Zod lo fa apposta perché sa che quella cosa gli brucerà dentro per sempre quindi il punto è secondo me uno come patriota che non si fa problema di ammazzare la gente lo usa come diversivo per registrarlo secondo me io concordo in pieno con questa tua affermazione infatti glielo ho detto anche a Bottero che a me trova in disaccordo però insomma rispetto il lavoro che ha fatto a livello puntistico ma poi non sappiamo se il potere espresso da patriota è al suo massimo in un certo senso nella stagione 2 ci viene fatto un pochino capire che no non è alla massima alla sua massima espressione quindi boh è difficile uno dovrebbe contestualizzare molto di più la cosa è come il confronto fra i velocisti cioè ma sai cosa io voglio dire patriota qualcuno ci ha letto ma ci serve superman avrebbe salvato l'ailo perché l'ha già fatto in altre storie sì il punto la differenza tra superman e patriota è che la cosa che io adoro di the boys the boys tiene conto anche delle leggi della fisica ok in un fumetto se fosse successa la stessa cosa che succedeva alla ragazza di di wii yugi ok non sarebbe stata spappolata l'avremmo vista morta buttata spinta più in là fisicamente se una persona indistruttibile che corre ti viene addosso ti spappola stessa cosa l'aereo lui dice non posso salvarli perché non ho gli appigli effettivamente la fisica ci dice questo se uno fosse in possesso di quel potere non potrebbe farlo nei fumetti quante volte anche nei fumetti più della golden age l'ois cade e lui la prende al volo dovrebbe spezzarsi in due con un grissino come succede a Gwen Stacy esatto sì esatto la differenza è che il superman nei fumetti se ne sbatta la maggior parte dei fumetti soprattutto di tempo fa se ne sbattono i coglioni le leggi della fisica effettivamente patriota non poteva salvare le persone di quell'aereo quindi capito la differenza perché non puoi comparare le due forze perché superman nei fumetti fa cose antifisiche patriota segue le leggi della fisica perché è ambientato in un mondo in cui le leggi della fisica le rispettano è tutta lì la differenza quando si schianta nella seconda stagione la scena della balena la scena della balena è geniale per quel motivo lì è per quello che è geniale la scena della balena perché uno dice è impossibile no non è impossibile effettivamente volento diciamo che è molto filialistico una balena non è che perché è grande e indistruttibile anzi è una deboletta tra l'altro c'è tra l'altro c'è anche abisso che cade che è sopra viene abisso viene uno riesce a scappare da abisso perde conoscenza eh sì 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 mamma mia che bella è proprio tutto quanto legato è carino secondo me vedere vedere quanto realistico sia quanto ci sia di realismo più che altro in quello che è la scrittura poi della serie perché sì si parla sempre di supereroi ma uno se ne parla in maniera diversa perché è un po' un anti-eroi più che supereroi e poi è molto realistico cioè io vengo reputato un dio non posso salvarli tutti quindi pubblicamente non risulterei più come un dio li lascio morire tutti no attenzione in chat hanno fatto confusione dicono che il ragionamento allora patriota non dovrebbe volare perché incontro la fisica ma patriota ha i superpoteri attenzione i superpoteri allora è un mondo in cui esistono i superpoteri quindi lui è antifisico ma può farlo perché esistono i superpoteri ma comunque deve seguire le leggi della fisica perché anche in quel mondo è antifisico che lui possa volare infatti la giustificazione è ha i superpoteri sì ma con Gitaru è inutile io mi sono scontrato tante volte cioè ti voglio bene Jay e sei ti stimolo come esperto no invece no si può parlare di realismo come? si può parlare di realismo per il semplice fatto che ragazzi però allora queste sono queste sono le basi si chiama sospensione di incredibilità e patto narrativo sono due cose che devi tenere presente io in un film supereroi accetto che una persona voli ok? ma allo stesso tempo cioè il punto è tu dici antifisico che voli infatti c'è la giustificazione è un superpotere le persone normali non volano né nei fumetti né nella serie ma il punto è che nella serie e questo ci viene dimostrato in più di una scena esistono le leggi della fisica se ti vengono addosso a 400 all'ora esplodi se c'è un aereo in volo non lo puoi prendere perché non hai punti di appoggio non lo puoi fare cioè i poteri hanno il limite delle leggi fisiche poi esistono e sono e infrangono le leggi della fisica e lì adesso stai guardando una serie sui supereroi e accetti che ci siano i superpoteri ma sono comunque vincolati alle leggi fisiche di base e questo è non è un'opinione te lo dico loro lui non salva le persone non perché sia cattivo cioè lui è cattivo ma lì non è un atto di è cattiverio il non salvare le persone il non salvare le persone è dovuto al fatto che non può farlo perché la legge della fisica glielo impedisce non è una mia opinione te lo dicono loro e quella è la differenza mamma mia c'è Jake Jay Daru penso che dopo questa ti svolterò ma io non voglio inferire però inferiamo perché stai parlando non tutto è soggetto opinione ci sono i fatti il fatto è che in The Boys i superpoteri sono limitati dalle leggi fisiche punto non lo dico io lo dice la serie ma io lo dico con amore ma Jay Jay Daru è una persona che sostiene che il Wade Wilson di X-Men le origini sia un bel personaggio io mi volevo io mi volevo cavare le orecchie non ha senso parlare di leggi della fisica su personaggi che non esistono ma cosa c'entra i personaggi sono fittizi calati in un mondo che è il nostro e che segue le leggi fisiche del nostro mondo cosa c'entra cioè nel momento in cui tu e questi sono i cosiddetti sistemi magici anche se non si parla di magia è un sistema fittizio con delle regole le regole sono puoi volare perché ci sono i superpoteri che te lo permettono ma se una persona vola non può sostenere un aero perché non ha un punto d'appoggio se prendi un fisico che ti fa il calcolo ti dice beh sì effettivamente è così se tu provi teoricamente a applicare è vero che è finzione ma la finzione deve essere regolata sempre nei fumetti se ne sbattono i coglioni le leggi della fisica nella serie no ed è questo la forza di The Boys è questa che sono superpoteri in un mondo reale però dove se una persona sta cadendo e la prendi al volo si spacca in due e ti trovi le budelle in faccia a me piace questa cosa e questa è la cosa divertente di The Boys oltre ad accartocciare come hanno detto nei commenti la politica li corre alla fine cioè però c'è una scena nella prima stagione con i train che dice che andava talmente veloce che si è trovato un dente della ragazza di Wii U in gola ripeto è velocibile è ovvio che nessuno può andare a quella velocità ma se potessi andare tu dici allora perché non è morto lui perché un supereroe è indistruttibile quindi lui non si è fatto niente però si è trovato i denti in gola perché perché questa è scoppiata quindi nei limiti del possibile hanno cercato di mantenere le leggi fisiche del mondo reale molto semplicemente Mauro dimmi hai presente il meme dei Simpson è già morto è già morto no io vedo Victor che calcia ragazzi ragazzi prego fatemi uscire sto meme dopo voglio vedere no non volevo no l'hai disintegrato Jay ma visto che siamo nell'argomento di cose brutte perché ho visto che è uscito fuori anche Deadpool di X-Men le origini quindi siamo in tema cose brutte Victor mi interessava sapere la tua opinione è cala cine panettone dei Marvel quello cine panettone Marvel aspetta che stai da gare stai presidente sei stato presidente un paio di secondi vai adesso no adesso no ok mi interessava sapere la tua opinione su Natale ad Asgard mi è piaciuto Thor Ragnarok proprio già il fatto che io abbia capito di che fin stai parlando è indicativo io capisco fare il simpatico ma la terza battuta sul cazzo di Hulk mi sono un attimo risentito basta il chiamato aiuto mi fa incazzare di quel film è che diventa interessante quando effettivamente vanno ad Asgard tutta la parte sull'altro pianeta è inutile è veramente inutile non ha boh io ti giuro era un personaggio che ci poteva ancora stare per il resto boh io non ce la facevo non mi è piaciuto neanche un po' ma mi ha proprio rotto le palle quel film mi hanno continuato con la partita di Fortnite ma no ma la cosa della partita di Fortnite è quella che ci sta non è quello il punto il punto è un altro ma si vabbè perché no raga mi fate sfogare un attimo su Thor Ragnarok perché io devo prendermi i miei tre minuti di sfogo su Thor Ragnarok tutte le live allora cioè è anche Pino Quozzo ma come fa a dire allora Thor io ho un personaggio che adoro lo seguo da sempre Thor è un dio è una persona che è un dio che quando compare nei fumetti soprattutto all'inizio compare parla in caplox cioè ha un suo carattere ha una sua personalità e quindi già renderlo macchietta in quel modo anche se tu ti rifai fumetti tipo il Thor indegno rimane indegno ma è sempre un dio ha un comportamento di un dio e lì tutto sembra tranne con un dio dopodiché cioè hanno preso due saghe fumettistiche che io amo come Planet Hulk e World War Hulk perché a quello si rifà tutta la parte di Sakaar cambiando inserendo il Gran Maestro dove non ha senso perché dovrebbe esserci R Rosso ma tralasciando cioè il Planet Hulk è una saga fumettistica di un'intensità impressionante dove Hulk viene buttato fuori a forza dagli Illuminati e scaraventato su sto pianeta dove c'erano dei dischi di obbedienza che mettevano in ginocchio addirittura Silver Surfer cioè tu non puoi prendere una saga fumettistica di quel livello e renderla veramente Natalia D'Asgard con Hulk che fa Thor amico di Banner ma di che stiamo a parlare secondo me quello è il punto più basso il punto più basso che abbia mai raggiunto Marvel Studios dall'inizio dei cinecomics scusate sicuramente il film dove riscrivono il finale riscrivono il finale di Age of Ultron riscrivono il finale di Age of Ultron è imbarazzante ma non solo vogliamo parlare di Thor che è il dio del tuono che spara a un certo punto spara i fulmini dalle mani perché il tuono è dentro di lui e tutto lo buttano giù col taser come sconfigge la torcia umana con un accendino non ha un cazzo questo va giù col taser ma guarda Thor Ragnarok è la prova che la Disney non è mai riuscita a valorizzare Thor come personaggio singolo ma solo coralmente perché perché per rendere interessante hanno dovuto iniziare a fargli fare il coglione peraltro a me non a me questa questo dai trasformiamolo in guardiani della galassia ma perché è Thor ho capito che la parte cosmica siamo tutti d'accordo ma è Thor è un tono da guardiani della galassia cioè hanno dovuto trasformarlo in guardiani della galassia per farlo piacere alla gente perché se no per come l'avranno gestito fino a quel momento Thor non piaceva alla gente c'è poco da fare al grande pubblico Thor non è mai piaciuto come gli altri supereroi da solo è piaciuto il momento in cui è diventato guardiani della galassia attenzione non paragoniamo però il salato giù però l'atmosfera è quella sì 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 sono d'accordo secondo me YT ti ha preso e copiato lo stile di Gano fa parte del filone cosmico io non ci credo neanche se dimostra l'immagine che aveva l'atmosfera di guardiani della galassia anche se è parte cosmica quindi perché molti dicono ma è la parte cosmica la trattano così non è assolutamente vero l'hanno trattata così solo nel guardiani della galassia hanno capito che funzionava e che Thor non piaceva come gli altri supereroi fanno Thor Ragnar che va tantissimo perché? perché ha ricordato vagamente il guardiani della galassia è solo per quello gli Eterni non ci credo mai che me lo trasformino in un guardiani della galassia 2.0 non si prenderà molto più sul serio nei limiti di quanto un film Marvel si possa prendere sul serio ma non ci credo ed è comunque parte cosmica l'hanno fatto con Thor perché Thor aveva bisogno di una cosa del genere altrimenti non lo recuperavano più sì però i guardiani della galassia nascono da un background che si presta ovviamente hanno rimarcato molto però i guardiani della galassia così come li ha concepiti James Gunn nascono da Nile Action Conquest e lì c'era già Mantis Rocket c'era un Bug che è un insetto vivente erano molto una squadra sgangherata all'assalto sì assolutamente non c'entra niente con quelli d'origine ma guarda anche Captain Marvel parte cosmica ma io non ci ho visto guardare la galassia dentro l'hanno fatto perché era l'unico modo c'è poco da fare i primi due film di Thor il primo era una mezza cacata il secondo è orrendo c'è poco da fare non è che puoi fare molto più di quello quindi hanno dovuto trasformarlo però vedi nel primo c'è una visione molto più aulica di Thor sempre messo bene sempre preciso molto divino nel secondo molto sporco molto combattivo sempre zozzo senza l'armatura insomma tutto così un po' sgangherato nel terzo non c'è Thor cioè vero alcuni ci sono che stanno dicendo che il finale di Far From Home sembra il Guardiare della Galassia collegato agli Eterni no a me più che altro io non ci ho visto il Guardiare della Galassia è Nick Fury che sta creando lo Sword ma io non ci ho mica visto il Guardiare della Galassia dentro per niente anzi è molto più simile alle puntate quelle più sul cosmico di Agents of S.H.I.E.L.D. se vogliamo stare a guardare non mi sembra io non ci ho visto il Corrispondenza con Guardiare della Galassia proprio a livello estetico non ho visto roba pop anni 80 nello spazio no ma non è parso no 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 ma poi Guardiare della Galassia l'unico l'unico personaggio su cui si è preso una licenza poetica molto forte Gunn è stato Drax cioè Drax è completamente cambiato però funziona Drax cioè in quel modo Tor no c'hai capito è questa la differenza d'accordo quindi sono contento ma sai secondo me voglio essere cattivo sai secondo me qual è stata la cosa buona su Drax che tu hai dato sono presidente sì ma adesso te sei risbloccato sono presidente vai vai te sei risbloccato vai Andrea ok su Drax hai Dave Bautista sai che non è un attore e quindi gli dai una parte molto più nelle sue corde Tor lo dai a Chris Hemsworth che fa o il belloccio o il coglione e pretendi che facciano qualcosa che non sia il belloccio o il coglione questo è l'errore infatti poi il Rodner O'Kinney mi fa quello vabbè scusate la cattiveria però sì 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 io però c'ho una curiosità c'ho una domanda a Victor che gli devo fare in quanto non c'entra niente con i cinecomics ma con una serie che io amo alla follia che è Doctor Who sono curioso mi daresti un giudizio veloce sui nuovi dottori cioè nel senso sul dottore dal nono al tredicesimo ma prima velocissimo io sono un grande fan ho anche un Dalek tatuato sul polpaccio quindi fantastico allora il nono per me è il più sottovalutato un ottimo dottore purtroppo Eccleston non era non andato d'accordo con Russell T. Davis ma tornerà in un radiodramma quindi sono contento peraltro un dottore completamente differente rispetto a quelli che abbiamo visto prima perché erano vestiti sempre in maniera molto eccentrica lui è l'unico vestito come una persona normale per davvero peraltro faccio notare che quello era il look che Colin Baker aveva proposto per il sesto non l'hanno fatto apposta sì che gli hanno negato e l'hanno vestito come un coglione però Colin Baker purtroppo è uno dei peggiori ma non era neanche colpa sua era le storie che erano scritte malissimo però il nono mi piace un sacco il decimo è fenomenale Tennant attore della Madonna insomma è stato uno dei dottori più amati anche se il più amato dal grande pubblico è stato Matt Smith grandissimo dottore grandissimo attore spesso e volentieri con storie orribili perché Moffat era bravissimo nell'era Russell T. Davis quando era Russell T. Davis lo showrunner e quando lui eccedeva probabilmente gli diceva senti per cortesia fai il bravo e ha scritto puntate come Blink e The Library che sono tra le migliori della serie contemporanea e quando è stato lui come showrunner non si dava una regolata ottimi soggetti pessimi finali pessime pessime storie tranne la nona stagione che siccome era l'ultima che ha fatto molto bella Evan Sente è una delle puntate più belle mamma mia l'adoro è la mia puntata preferita il titolo della puntata è una roba da brividi quando capisci dov'era e dove si mamma mia che roba torti adoro è la mia puntata preferita o anche il disco io ti do una chicca ho anche il disco confessione fatto dallo stesso prop maker che l'ha fatto per lo show ti giuro ti ringrazio è un oggetto a cui tengo molto e la puntata ce l'ho veramente nel cuore quindi mi piace la puntata è meravigliosa Capaldi è un dottore incredibile è il mio preferito è il mio preferito perché della serie classica il mio preferito era il terzo e Capaldi è quello più simile al terzo come carattere anche come aspetto se vogliamo e poi il dottore punk c'è il dottore che suona la chitarra come fai è fantastico peccato che abbia avuto la companion più irritante di sempre che Clara Oswald io veramente Clara Oswald la odio ok non la sopporto o meglio con Smith ancora ancora da quando c'era Capaldi è diventata fastidiosissima io nella puntata Kill the Moon quando c'è lei che dice perché non potresti aiutarci almeno per una volta mi viene da dire ma sei scema hanno salvato la terra miliardi di volte ma che cazzo dici vabbè poi Jodie Whittaker dottore fantastico showrunner incapace perché Chibnall finché faceva bro c'era bravo ma non dovevano mettere su Doctor Who la serie cioè lei è bravissima ma ha dei companion che sono odiosi cioè veramente irritanti al massimo non li sopporto quei tre e poi le storie sono terribili hanno abbandonato a parte allora la dodicesima stagione no scusa l'undicesima stagione non aveva praticamente la trama orizzontale e infatti ha perso un sacco di ascolti perché la gente si annoiava perché non è più il 1970 la gente con Doctor Who vuole quell'accenno di trama orizzontale che si risolve nel finale l'hanno messa nella dodicesima io ti dico che la dodicesima non l'ho neanche finita ancora perché io che amo Doctor Who mi sto rompendo le balle non riesco cioè veramente mi dispiace perché lei è veramente un bravo dottore ma proprio tanto ma ha delle storie che sono terribili le peggiori storie da quando hai ricominciato Doctor Who come anni fa bella disanima sono contento perché mi interessava avere la tua opinione a riguardo su una serie che amo e c'è anche qua un po' di diatriba tra me e Simona sui dottori io personalmente non ho apprezzato particolarmente il nono adoro Capaldi adoro Tennant Smith mi piace però il monologo degli anelli di Akaten è qualcosa di cioè ti strappa via la carne dal corpo proprio quanto la pelle d'occa che ti sale lui lui credo che sia stato allora io credo che quella di Tennant e quella di cioè quello di Tennant e quello di di Smith siano i momenti di rigenerazione migliori di sempre mi dispiace per Capaldi perché secondo me gli hanno scritto un monologo che non è all'altezza della sua interpretazione lui è bravissimo ma un Capaldi con un monologo come quello di con una scena come quella di Tennant sarebbe stato pazzesco è un peccato perché secondo me quel monologo è uno dei più deboli delle generazioni persino quello di Eccleston era migliore cioè e che era quello un po' più debole quindi un po' mi è spiaciuto devo essere sincero bene bene allora torniamo un attimo ai cinecomics ho visto la scena di Wakanda di Thor che è piaciuta molto quindi contrapposizioni Infinity War Endgame sono due film completamente diversi cioè sono il punto è molti dicevano allora quando hanno fatto che inizialmente devono essere Avengers Infinity War parte 1 e parte 2 poi li hanno separati sono due film diversi la gente fa beh non è vero no è vero cioè sono collegatissimi perché uno è il seguito dell'altro ma sono diversissimi paragonabili per l'amor del cielo Endgame è più emozionante Infinity War ti lascia di stucco perché nessuno si sarebbe mai aspettato quel finale cioè quando succede quella cosa sul finale tu ti dico ma veramente è stata una roba pazzesca cioè si può dire penso l'abbiano visto tutti è vero che poi torna però avere i coglioni di mettere a scena con Spider-Man che muore lì sono stati veramente dei geni perché non se l'aspettava nessuno nessuno grazie all'attore eh sì lui è bravissimo secondo me quindi ma la scena il rapporto che si è creato con Tony Stark secondo me è una roba hanno veramente fatto un'ottima cosa Victor tu non hai trovato Endgame un po' troppo telefonato e al servizio del fanservice cioè nel senso senza dubbio ma tutti quando si parla di questi film secondo me non si parla quasi mai di capolavori sono proprio pochi quelli che dici cazzi tipo Guardiani della Galassia e quello è allora il punto è proprio perché lo amano anche quelli che non sono fan dei cinecomic perché quello è cinema con la C maiuscola che non si limita al solito attrimento c'è la regia ci sono le citazioni è proprio lo vedi che è un autore è un film d'autore è un film d'autore con i soldi anzi è un film della troma con i soldi un po' come la slither allora tipo slither di james gun perché è piaciuto così o anche super perché è piaciuto sono piaciuti tanto al pubblico perché erano dei film della troma con un budget altissimo perché è piaciuto tanto Guardiani della Galassia perché è un film della troma senza troppo sangue ma è quello c'è il gusto troma lo senti c'è anche Kaufman che fa un cameo in Guardiani della Galassia è uno degli scienziati quindi figurati è bello perché è autoreale gli altri per la maggior parte sono degli ottimi film di trattenimento Endgame è un film con delle falle grosse così cioè Endgame per dire che se tu noti non ti spiegano come ha fatto Thanos a arrivare alla è ma perché c'è Bonimo che è un mago ok fammi una frase con lui che gli dà la fiera e dice pensaci tu con lui che lo metti in una macchinare o qualcosa del genere ci voleva tanto mettere una scena del genere perché è vero che non ci vuole arrivare va bene ci puoi arrivare però cazzo è un non detto un po' pesante quello è pieno di puttanate Endgame però è emozionante quindi io ritengo che sia un film molto emozionante perché comunque è la somma di undici anni di costruzione per arrivare a quel momento cioè la scena di Avengers Uniti no no dal primo Iron Man ti scenderà l'acqua io l'ho visto quattro volte in quattro torri diverse in quella scena la gente si alzava in piedi e urlava cioè c'era gente che si abbracciava gente che piangeva dite quello che volete potete dire quanto volete che non sia cinema ma quel tipo di emozioni non l'ho vista per nessun altro film mai in 32 anni di vita io non ho mai visto un'emozione del genere in una sala mai l'ho vista quattro volte per lo stesso film in quattro sale diverse vorrà dire qualcosa sono d'accordo però a me personalmente ovviamente io non sono nessuno però è emozionato molto di più Infinity War perché finalmente c'era uno dei miei cattivi preferiti in Marvel che è Thanos e mi è piaciuto veramente tanto l'intensità che hanno dato al personaggio il motivo e Thanos è fantastico perché quello di Endgame non è lo stesso Thanos è proprio un'altra caratterizzazione perché è un Thanos che non ha ancora raggiunto quella consapevolezza però l'hanno proprio completamente ammazzato in Endgame cioè nel senso Thanos è talmente tanto profondo in Infinity War quanto è vabbè ho capito che non posso vincere allora distruggo tutto cioè non è quello Thanos capito? in realtà Thanos è un Thanos molto prima di raggiungere quel tipo di consapevolezza quindi è un Thanos che non è ancora ma non è ancora diventato diciamo un esperto capito è un altro Thanos è un Thanos precedente quindi ci sta che sia immaturo e che è un Thanos ancora votato la distruzione non è il Thanos saggio di Infinity War quindi a me ci sta perché non è lo stesso Thanos è sempre lo stesso personaggio prima di aver raggiunto quel tipo di consapevolezza ma va benissimo sì però non l'hai preso tipo in adolescenza cioè l'hai preso pochi anni prima capito? pochi anni prima però c'è anche da dire che pochi anni prima è quello è il Thanos che vediamo in Guardiani della Galassia se tu prendi il Thanos di Guardiani della Galassia diresti che è lo stesso Thanos di Infinity War sembra un altro personaggio va benissimo così è il Thanos di Guardiani della Galassia sbruffone cattivo perché sì non è il Thanos ma tra le altre cose se noti anche esteticamente il colore della pelle è diverso da Guardiani della Galassia è un altro Thanos per cui io lo accetto per quel motivo lì è completamente differente e invece a me va bene il Thanos è figo ma lo sono visto nel film prima va bene così beh sì quel Thanos è irraggiungibile beh ma poi mi è piaciuto molto di più rispetto ai fumetti che lui fa tutto quello solo per compiace morte cioè almeno c'è un Thanos con uno scopo e una ragione sensata allora è sempre pazzo perché alla fine molti dico allora io c'è anche qui la querelle ma non ha senso può raddoppiare le risorse sì potrebbe se volesse potrebbe ma non lo chiamerebbero il titano pazzo cioè il piano di Thanos dicono che non ha senso ovvio che non ha senso è pazzo non lo chiamano il titano saggio lo chiamano il titano pazzo lui è rimasto traumatizzato da quello che è successo a Titano non lo hanno ascoltato e lui dice va bene ok non mi hanno ascoltato adesso adesso gli mostrerò a tutti che avevo ragione è fuori l'avranno chiamato l'avranno chiamato Thanos il titano intelligente il titano furbo il titano buono non l'avranno chiamato se lo chiamo il titano pazzo perché questo non ci sta con la testa ma lo vedi che non ci sta con la testa allora e Magarelli scrive ragazzi mi hanno creato un universo super eroistico cinematografico l'ho già ben dieci anni qualcosa di incredibile non tutto è ben riuscito no ma cioè qua ovviamente noi siamo tutti fan dei fumetti e siamo ben felici almeno parlo e questa è da storia del cinema non è mai stato fatto di quello che hanno creato poi ovviamente si discute davanti dei fumetti del particolare che nessuno vede ma qui ad esempio Victor a te è piaciuta la scelta di far decidere al topo le sorti dell'intero universo cioè allora in realtà in realtà sì e ti spiego anche perché perché è il caso Thanos parla tanto di caso parla tanto di il caos è equo come diceva il Joker no? di fatto è quello perché io amo il caos perché il caos è equo non ha un piano è bello che Thanos che ha sempre detto che lo schiocco avrebbe polverizzato tutti casualmente ok altrettanto casualmente Ant-Man viene portato fuori da un topo cioè per dire è una roba che a me non ha dato fastidio peraltro è successo cinque anni dopo mica è successo dieci minuti dopo è puro caso come il caso ha deciso chi rimaneva e chi se ne andava ha deciso anche questa cosa qui non ci vedo niente di sì può essere un espediente che può dar fastidio va bene ma non è la cosa più assurda che abbiamo visto nell'universo Marvel tra l'altro io sono sempre stato dell'idea che il finale di Infinity War sarebbe stato anche perché sarebbe stato anche coerente volendo con quello che hanno fatto dopo sarebbe stato lui che guarda verso l'alba e si disintegra io l'avrei fatto così io l'avrei fatto polverizzare anche lui ti ricordo la verità però dopo era troppo semplice le gemme rimanevano là andavano a prendere il guanto ma in realtà in realtà se ci pensi lui è il guanto fuso giusto? però le gemme stanno là appunto io non avrei messo le gemme che stavano lì ma l'avrei fatto che si disintegrava tutto comprese gemme sì con lo schiocco disintegrava anche le gemme e si polverizzava a me sarebbe piaciuto molto di più tanto alla fine il senso era che le gemme si andassero distrutte a livello di impatto vedere Thanos che ha fatto questo e si polverizza distrutto dal suo stepper perché di fatto se lui si fosse polverizzato non gliene sarebbe fregato un cazzo cioè lui sapeva di potersi polverizzare ma l'ha fatto lo stesso sarebbe stato dieci volte più bello tanto alla fine andavamo sempre in quella direzione sarebbe stato anzi sarebbe stato ancora meglio perché non l'avrebbero neanche ucciso loro sarebbe stato un doppio smacco cioè questo ha fatto una cosa che l'ha ucciso ma non gliene frega niente lui che sorride e pian piano si disintegra sarebbe stato il finale perfetto cioè io l'avrei fatto così poi ovviamente sono scelte comunque tornando alle scene da film da braccio al cinema come hai detto tu forse che metto alla stessa lo stesso piano e parlo della mia trilogia preferita del cinema che è il signore degli anelli pensavo la scena del ritorno del re pensavo Dark Knight pensavo Dark Knight e la differenza è che quella era una trilogia uscì un film all'anno per cui c'era una attenzione ma è una cosa diversa questa è una cosa che per 11 anni per 11 anni non abbiamo sentito quella frase è una roba da fanboy estremi ma è fatta per quello cioè io quando ho visto i segnarelli non c'era lo stesso entusiasmo perché il legame era forte ma erano pur sempre film usciti da pochi anni il primo era uscito appena un paio di anni prima qua parliamo di una costruzione di 10 anni che porta a quello specifico momento è un'altra cosa è un altro tipo di emozione per quanto io se vedo gente paragonare la battaglia di Endgame a quella dei segnarelli prima non gli annacciano neanche le scarpe cioè quella dei segnarelli è storia del cinema è roba cult irreplicabile secondo me quindi no però è un altro tipo di emozione e pensa che gente che ha voluto paragonare la battaglia di Grande Inverno a quella del Fosso di Eren mi si è spezzato allora per essere televisiva ti posso dire che è la cosa più vicina a quella battaglia che abbiamo visto sì sì però comunque ovvio ma c'era anche un budget diverso con un budget adeguato secondo me l'avrebbe fatta molto simile ti dico la verità è l'unica battaglia a livello di un prodotto audiovisivo che mi sento di dire che ci si avvicina è che il budget è diverso con lo stesso budget secondo me sarebbe stato uguale molto simile poi sì sono due cose diverse però è una bella battaglia senza dubbio a me non è segnarelli non è dovuto alzare la luminosità del televisore aspetta ma tu parli di quella di grande inverno dell'ultima puntata no no quella contro Ramsey no io non dico la battaglia dei bastardi attento ah no 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 io parlavo della battaglia dei bastardi no no allora era coraggioso il tentativo di farla di notte usando delle luci che non esattavano però effettivamente era un po' scura no 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 quella no quella no quella no ma no no quella no 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 io parlavo di scusa pensavo che parlassi della battaglia dei bastardi no 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 quella è la gravissima battaglia no no io pensavo quella è la grande inverno no no quando mi dici la battaglia del grande inverno io penso a quella della battaglia dei bastardi non penso a quella a quella buia no 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 per quello che ci hanno qualcuno ha tentato di dare di dire che appunto era quasi meglio di quella lì cioè no 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 il coraggio ma obiettivamente no obiettivamente mai ma quando ma figurati no no Victor si è preoccupato della gestione di Deadpool sotto della Disney? no perché non sono degli idioti hanno già trovato secondo me col multiverso trovano il modo di slegarlo non lo mettono no 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 lo sanno sanno perfettamente che se facessero un Deadpool edulcorato la gente si incazzerebbe non lo possono fare non lo faranno mai no 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 ok quindi siamo fiduciosi almeno sotto quell'aspetto però sai cosa io penso la Disney non è che sono scemi in Disney secondo me è come dicono rovineranno Alien lo faranno edulcorato ma perché ma non è vero Alien ha un target e tengono quel tanto non è che sei sotto Disney è vero che questo è sotto Marvel ma non lo metteranno secondo me se lo mettono nei film corali lo edulcorano per forza per forza di cose ma se lo mettono nei film stand alone in un film stand alone non lo possono edulcorare farebbero incazzare i fan non gli conviene bene senti sì coralmente te lo edulcorano per forza però secondo me ci marciano sopra però c'è fanno trovano il modo di fare lui che si renda politically correct perché sa che è sotto Disney perché lo può fare lui rompe la quarta parete quindi secondo me si auto siccome lo fanno auto edulcorato perché è lui che sa di essere in un film Marvel così farebbe morire da ridere solo se dovessero mai mettere nei film corali a me farebbe ammazzare da ridere questa cosa di lui che si autocensura perché sa che è in un film Marvel lì diventa il punto di forza solo nei film con altri supereroi nei film stand alone non lo faranno mai sarebbe sarebbe fighissimo vedi automaticamente quello che dovrebbe essere una debolezza ti diventa un punto di forza enorme ci puoi fare miliardi di battute ma è ripetitivo su una cosa del genere tra l'altro adesso devono inserire i contenuti più 18 su Disney Plus quindi comunque con Star sì hanno annunciato oggi hanno hanno confermato oggi quello che avevano già detto 23 febbraio e hanno già detto che si troverà un po' di roba molto molto figo Star tra l'altro sembra per cui può essere interessante anche questo allora io mi allaccio un attimo perché mi piacerebbe per non sforare troppo chiudere l'argomento cinecomics con una domanda dato che l'abbiamo accennata e poi vorrei un tuo parere sul cosplay però ci passiamo dopo adesso la mia domanda era dato che abbiamo accennato il politically correct no io penso di dire che ovviamente siamo tutti a favore delle minoranze ci mancherebbe altro però secondo me c'è modo in modo nel senso prendiamo io vorrei farti due esempi su cui vorrei avere un tuo commento il primo esempio è la scena di Girl Power di Endgame paragonata alla scena di Girl Power di The Boys il secondo aspetto invece su cui vorrei porre l'attenzione il cambiare etnia a dei personaggi nel senso ci sono tanti bei personaggi fumettistici con una loro specifica etnia sei d'accordo invece a cambiarla riscrivendo storie su personaggi che non nascono con questa etnia dipende dal caso se la storia lo richiede sì io non ho mai amato gli swap etnici quando sono insensati e fatti solo per far vedere che sia inclusivi perché quella è una forma di razzismo per quanto mi riguarda cioè quando tu valorizzi un personaggio per il colore della sua pelle che magari è un personaggio che non era in origine di quella nazionalità lo stai facendo per mettere in bella mostra se tu sfrutti il colore della pelle di un personaggio per una cosa del genere è una forma di razzismo ti dico la verità ad esempio adesso dovranno introdurre gli X-Men prima o poi se dovranno introdurre il magneto io lo vorrei nero e ti spiego il perché perché il magneto allora innanzitutto è un problema pratico se loro vogliono fare una saga c'è bisogno di un magneto giovane ok se prendi il magneto giovane tu puoi anche inventarti che è stato nei campi di concentramento e che non invecchia perché invecchia più lentamente ma non funziona perché il fatto che sia così giovane te lo rende troppo troppo non so non ha lo stesso impatto del magneto anziano che è stato nei campi di concentramento ormai se non usi quell'espediente che secondo me non funzionerebbe dovresti prendere un attore molto avanti con gli anni perché sono passati 70-80 anni da quello che è accaduto all'epoca ok allora come fai a introdurre un magneto che abbia un passato di discriminazione siamo in periodo Black Lives Matter metti un magneto un po' più giovane che è stato discriminato in quanto nero attualissima come tematica e poi prende un attore però anche lì secondo me prenderanno un attore giovane e lì non avrai niente da dire perché caspita è giustificato dalla trama anzi ora come ora nel periodo storico in cui siamo mandi anche un messaggio forte non cioè nel senso il punto è che si era preso con magneto l'olocausto perché all'epoca in cui è stato creato X-Men erano passati una ventina d'anni e quindi rimarrà sempre una ferita freschissima perché quello che è accaduto è qualcosa di inimmaginabile ok uno dei genocidi più terrificanti della storia purtroppo ce ne sono stati tanti ma è stato quello più programmatico organizzato è qualcosa che fa venire i brividi a pensarci il problema è che quello sarà sempre attuale non è una questione di attualità è una questione che essendo passato tanto tempo diventa difficile renderlo credibile è quello il problema è l'esempio più grande di discriminazione odio razziale quello ma ora come ora non ti torna più con l'età cioè devi creare l'espediente invecchia più lentamente e a quello stesso tempo lo vedi poco credibile un ragazzo giovane che è stato nei campi di concentramento non è capito è nel tempo ma no ma ti perde l'impatto ti perde completamente l'impatto secondo me hai capito si va si infesta si infesta la metafora sul razzismo perché poi secondo me sarebbe anche una io lo vedrei un po' come una mancanza di rispetto ti dico la verità io non giocherei troppo su una cosa così seria non lo so io non lo vedrei come rispettoso ti dico la verità finché eravamo nei primi anni 2000 ed era credibile il magneto anziano ok adesso non ti diventa più credibile e potrebbero prendere un'altra persona anziana ma poi quanto c'hai capito deve fare delle scene d'azione è difficile come fai se prendi una persona di 65-70 anni magari voglio portarla avanti per 15 anni come fai è brutto da dire ma a livello pratico devo pensare è realistico è realistico molto che se fila ma secondo me non bisogna riscrivere la storia di X-Man cioè perché devi riscriverla alla fine cambi solo il contesto discriminatorio ma tanto se cioè l'importante che ci sia che il magneto deve essere discriminato doppiamente prima in quanto in quel caso ebreo o nel caso da facesso questa cosa come persona nera e poi come mutante l'importante è che lui subisca discriminazione doppia e che ci sia un esempio di discriminazione perché comunque alla fine la metafora è quella sull'odio raziale sul fatto che gli esseri umani devono sempre trovare il motivo per discriminare qualcuno oppure mutante Novax quello magari no però capito secondo me secondo me sarebbe cioè capito io ti dico per me è una questione di rispetto mettere uno che dici invecchi e più lentamente come sopravvissuto all'olocausto non lo so mi va di rispettoso non so spiegarti perché mettere uno magari di 40 anni che mi dice che sopravvissuto è più concentramento non lo so sembra quasi un insulto alla memoria dei veri sopravvissuti non chiedermi perché ma mi dà quell'impressione lì non mi piace molto semplice e poi è meno credibile perché tu comunque esteticamente lo vedi come un giovane non lo so quindi tu dici che sei favorevole diciamo al cambio di etnia purché la storia che ci sia dietro sia credibile sì perché altrimenti diventa una cosa che non è fatta per una che è fatta solo per una questione di guarda ok l'unico caso in cui ad esempio non era così era Deadshot che dico ah è solito politicamente corretto no era Will Smith volevano l'attore famoso che si era interessato al progetto e l'ha messo ma infatti lo swap etnico di Deadshot cioè a me non dà fastidio quando poi quando magari sono personaggi misconosciuti o meno conosciuti se non dagli appassionati non ti cambia che ad esempio io ti dico poi dipende perché se volessero fare ad esempio una versione alternativa di Superman nero per dire ma paradossalmente se ci pensi alla fine non è la pelle bianca che contrattistingue Superman se ci pensi basta che sia il ragazzotto finto timido c'è capito ci sono dei casi in cui cambiare etnia di un personaggio se non lo fai per una questione politicamente corretto cioè se tipo non so prendessero io c'era una volta che dicevano c'era questa voce infondata che voleva Michael B. Jordan come nuovo Superman ma lì avrebbe senso perché è Michael B. Jordan un attore conosciuto molto amato lì non lo fai per il colore della pelle d'attore lo fai perché è l'attore famoso e poi comunque può essere interessante anche magari riscrive un po' Superman anche da quel punto di vista perché alla fine è un alieno il colore della pelle non è rilevante aveva la pelle bianca perché era degli anni 30 ed era impensabile il supereroe nero ma adesso potrebbe tranquillamente farlo molta gente e strorcierebbe il naso ma alla fine quello che conta di Superman è che mantengano il carattere Michael B. Jordan è un bravotto o se lo facessero con che cacchio ne so un Idris Elba perché no io non avrei molto da dire un Idris Elba di dieci anni fa io non avrei avuto molto da dire guarda io sono io sono purtroppo riconosco con il mio limite io sono molto legato alle origini dei personaggi anche nei miei costumi cioè nel senso sono molto tradizionalista e per questo sono stato molto contrariato dalla versione di Aquaman di Momoa e anche questa è un'occasione per dirlo perché non lo so quello che dice è tutto giusto e condivisibile però a me vedere personalmente un Aquaman principe d'Atlantide red Atlantide bello possente poi vabbè che dicono Aquaman non ho sfigato però insomma Aquaman per come l'ho letto io e per come l'ho sempre visto è una figura regale non ho molto nobile e vederlo ridotto a ermonnezza che parla con i pesci mi ha fatto veramente molto male al cuore e quindi io in quel caso per quanto la storia comunque fosse credibile e lo dico anch'io che il film a me non è dispiaciuto però non è Aquaman a me mi fa male al cuore vedere Momo associato a Aquaman come mi ha fatto male al cuore vedere che poi i fumetti ovviamente si sono adeguati allo stile cinematografico quella versione di Aquaman era già un pochino più simile a quella a una versione a quella di lui con un cino che secondo me è più ispirato a quella in realtà è solo che non è biondo biondo però guarda che non è tanto diversa da quella versione non ha l'uncino ma sia lì non è che si è ispirato abbastanza a certe versioni cioè non è che è proprio venuto fuori dal nulla poi sì è una versione che doveva essere appetibile per il grande pubblico assolutamente hanno messo il pettorale di Momo è Caldrogo è Caldrogo è Caldrogo è assolutamente però va bene cioè a me ha messo anche bene però però a me cioè insomma io l'ho vista la run di Aquaman con un cino però insomma non era non era maori cioè non era proprio così no però palesemente rozzo alla fine Jason Momoa è hawaiano quindi cioè ci sta l'hawaiano la cosa la cosa che viene in mente quando pensi alla Hawaii sono il mare ci sta come versione per il grande pubblico perché devi pensare che queste cose qui vogliono sollucrare gli appassionati ma alla fine lo fanno per il grande pubblico perché è quello che ti stacca i biglietti e il grande pubblico vede Momo che fa praticamente Caldrogo nell'oceano ed è contento devi anche pensare a questo il grande pubblico si è meravigliato per misterio cattivo in Five from Home ragazzi ma non vi dovete stupire il grande pubblico è quello che si chiede perché in Avengers non c'è Batman ma non che c'è ignoranza ignoranza in materia ma perché questi film non li fanno solo per i fan i fan sono il minimo devono tenere conto che i fan ma alla fine quello che conta a livello commerciale è il pubblico enorme è il pubblico in classi quindi più gente porta il pubblico di casuali quelli che si vanno a vedere i film di supereroi che magari si vanno a vedere un film Marvel senza averne visti i cinque prima ma perché non gli ne frega niente della continuity ed eccetera ma va bene così è giusto il mondo è bello perché va se ne vanno prima della fine ma il punto è noi ci indigniamo ma come non vedo la scena e ti dico ma lui che cazzo gliene frega lui voleva passare quello spettatore lì si voleva passare una serata in tranquillità ma è giusto non possono essere tutti appassionati di fumetti o appassionati di cinema io conosco gente che si ammazza di film ma non ci capisce una mazza di discorsi cinematografici se vai sul tecnico perché non è che esiste solo lo spettatore informato la maggior parte dei spettatori non sono informati perché il cinema lo vedono come punto di intrattenimento e va bene così perché il cinema nasce con quello scopo diventa arte poco dopo ma lo scopo le prime proiezioni del cinematografo Lumière erano scene di vita quotidiana che erano incredibili viste sullo schermo ma era intrattenimento era un biglietto a basso costo rispetto al teatro altre forme d'arte che tu ti guardavi o di intrattenimento che tu ti guardavi in un caffè al baretto per intenderci è nato così il cinema e poi l'arte si è agganciata subito perché aveva un potenziale artistico incredibile ma non è nato subito come arte era nato come mezzo di sostentamento per il Lumière era un nuovo modo di intrattenere il pubblico a basso costo questo è il cinema poi è diventato una forma d'arte tra le più nobili che siano mai esistite ma la maggior parte delle persone alla maggior parte delle persone non gliene frega un cazzo magari io conosco persone che hanno visto Animali Notturni hanno detto è un film bellissimo ma non ci ho capito un cazzo e va bene così perché perché quando un film d'autore come quello ti fa dire è un film bellissimo anche se non ci hai capito un cazzo comunque ha fatto il suo dovere non tutti sono obbligati a vedere il cinema come forma d'arte anche se lo è secondo me stessa cosa per film del genere sono film di intrattenimento c'è gente che li vede come film di intrattenimento basta dopo due ore si sono già dimenticati quello che hanno visto e ti chiedono perché non c'è Batman e gli Avengers come dicevo prima ma ci sta io non ci vedo niente male ma poi anche il lato cosmico Iron Man Iron Man era uno dei più sfigati sui fumetti e quindi grazie ai cinema e a Robert Downey Jr perché non avevano Spider-Man dovevano puntare su qualcuno la Marvel ha sempre fatto questo quando volevano un grande successo prendevano il personaggio meno conosciuto Guardiani della Galassia chi cazzo li conosceva a parte quei pochi che hanno letto i fumetti che poi non c'entrava neanche un cazzo con quei Guardiani della Galassia tra l'altro eppure hanno hanno creato loro creano dal nulla dei cult sono bravissimi in questo te li cambiano rispetto ai fumetti perché nei fumetti Tony Stark è un sociopatico alcolizzato nei film no perché non poteva funzionare un sociopatico alcolizzato in un film destinato anche alle famiglie e ai bambini non puoi però funziona comunque la storia di Magneto comunque poi dopo gli ultimi successori della Fox si devono diciamo cambiare qualcosa ovviamente perché appunto con la Fastbender si attore ci sta magari però tutto quel casino che hanno fatto anche con la continuiti temporale da quello che reputo io il migliore film su X-Men che è Giori di un futuro passato a passare a Apocalisse cioè non si capisce più nulla un schifo Dark Phoenix vabbè infatti Dark Phoenix raga hanno preso la saga dalla finisce e l'hanno resa anche il morto mi hanno fatto ridere Sofitano in un'intervista pensate il film veniva scritto giorno per giorno mentre giravamo ma si vede pure non c'è bisogno che me lo dici tu l'ho capito che l'hanno fatto col culo perché l'hanno scritto lo scrivevano lo sceneggiavano giorno per giorno a seconda del giorno di ripreso non sto scherzando l'hanno fatto così e infatti mi viene da dire tesorino ma si vede ma non è una cosa che è ambientato dieci anni prima del primo X-Man alla fine che tracollo brutto mica tracollo brutto sì tra fa stendere oddio mecafoi sì Vittorio ho paura a farti una domanda perché Violetta mi ha redarguito a fartela però te la faccio lo stesso perché l'ho uscita in live allora cinepanettoni si discuteva con Violetta nel senso tutti contro io sono stato l'unico che ha detto ragazzi fatemi spezzare una piccolissima lancia anche io l'ho detto in favore cinepanettoni perché comunque ce ne sono un paio che tu li guardi e esci con qualche risata un minimo di buon umore potrei essere d'accordo ma dipende di quali stai parlando il mondo è vero per il radio comunque come hai detto l'ultimo film è fatto bene perché ho usato la stessa tecnica di The Mandalorian per esempio quali sono secondo te quelli che potrebbero salvarsi ma guarda io ho un paio di film che ho visto volentieri anche se sono molto trash sono quelli dove non c'è Boldi e c'è l'accoppiata dei sicaghini a me un paio sono piaciuti tipo il nostro Natale a Rio quelli per me sono secondo me quelli che si salvano potrebbero essere il primissimo vacanze di Natale che aveva anche un fondo di critica sociale sì alla fine non era comico era una comedia italiana sì era un po' amaro i borghesi che scartano i pacchi davanti ai filippini con la faccia triste o anche Garrone che dice anche stanno a questo Natale se lo siamo levati dalle balle cioè comunque era specchio di quello che era diventata la borghesia italiana no amendola che regala la ragazza i suoi sogni che è fidanzata con De Sica gli occhiali da sole che cadono e De Sica che gli ripesta senza neanche accorgersene è proprio il ricco che sputa sul povero lì potevo capire vacanze in America persino quella cacata quelle cacate di A spasso del tempo A spasso del tempo 2 con tutte le citazioni ai vari film per quanto fossero dei film ignobili a me qualche risata l'ha strappata perché ancora c'era del c'era del un'idea c'era un'idea c'era un'idea c'era un'idea parliamo di Natale in India Natale a Miami Natale su Nilo quello per me è l'abisso culturale e sai qual è la cosa peggiore? è che i cine panettoni sono diventati così perché sono specchio della società cioè nel film di Boris c'è Glauco a un certo punto che dice allora il cine panettone è una roba è una scienza cioè non è la solita merda c'è proprio una scienza e c'è Glauco che dice allora tutti gli stereotipi cioè tutto quello che è negativo deve diventare positivo è lo specchio della società italiana degli ultimi anni degli ultimi decenni è per quello che vanno così tanto perché l'uomo medio la persona l'italiano medio si riconosce in quelli stereotipi perché checco zalone va così bene quando fai film perché checco zalone che cosa fa checco zalone prende di superficie tutte le cose che non vanno e quindi ti parla di equità lui con lui che con equitalia che gli morde il culo e magari la persona che ha equitalia che gli bussa la porta da due settimane quando ancora c'era equitalia che gli bussava la porta da settimane che cosa fa si riconosce in quello stereotipo anche a me equitalia rompe i coglioni infatti se noti una cosa interessante i film di zalone è che invecchiano tutti in malissimo nel senso che tu guardi un film di zalone la maggior parte delle battute sono su cose che non ci sono più o che ti sei dimenticato perché zalone fai film su quello che è discusso in quel momento non va mai in profondità ti fai film di superficie le persone si riconoscono in quegli stereotipi ridono fine sono film fatti per quel momento invecchiano subito dopo un anno quei film beh infatti la scena del primo film di zalone degli emo era in pieno periodo emo è invecchiativo ma anche se ho cuovado battute su equitalia battute su cose che ormai non sono più non sono neanche più attuali infatti perché tolo tolo relativamente rispetto a quello che ha costato ha incassato 40 milioni beh è anche vero che ne ha costati 16 se guardi gli altri film avevano incassato molto di più il rapporto a costo perché tolo tolo è andato male perché zalone ha fatto una cosa che in parte è anche coraggiosa se vogliamo ha fatto l'inverso di quello che fa di solito ha fatto le battute per l'italiano medio ma che lo prendono per il culo io vorrei ricordare quando c'è stato il videoclip immigrato che ci sono persone non faccio nomi perché non sono sul mio canale persone anche rappresentanti politici che lo osannavano perché erano convinti che lui stesse che fosse anti-immigrazione quando poi si sono accorti che gli ha preso per il culo si sono incazzati tantissimo perché perché non c'è niente di peggio che accorgetti di aver fatto la figura dello stupido vabbè loro sono abituati io non dico non voglio fare ripeto non faccio nomi perché non sono sul mio canale non voglio creare problemi a nessuno quindi però avete capito cosa si intende tutte le persone con una certa idea politica hanno creduto che lui fosse anti-immigrazione quando si sono accorti che era pro-immigrazione si sono incazzati come una mina è andato contro il pensiero medio dell'italiano in questo periodo storico ha fatto una cosa coraggiosa ha incassato tanto ma molto di meno rispetto a quello che ha fatto negli altri anni perché è la prima volta che si è sposto come si è sposto l'italiano si è incazzato ma voglio è un po' quello che faceva anche non so adesso Paolo Villaggio con Fantozzi all'epoca che prendeva i problemi nella società e li rileggeva in chiama è diverso perché lui era nonsense capito era molto slapstick molto cartunesco era molto avanti Paolo Villaggio all'epoca però sì i film di Fantozzi i primi poi quelli dopo insomma i primi i due di Salci e il primo di Parenti perché Parenti qualcosa di buono ha fatto con Fantozzi poi da quarto in poi però i primi tre avevano un fondo di critica sociale enorme esagerato esasperato ma era fantastico Fantozzi proprio per questo motivo era anche una comicità meno accessibile però molto meno accessibile rispetto a un vacanze di Natale ad esempio era fatto meno per la borghesia Fantozzi rappresentava era proprio un film sugli ultimi sui perdenti nati che non vinceranno mai era molto politico ok ok dai chiudiamo la parentesi cinema e in chiusura vorrei farti una domanda sul cosplay possiamo andare avanti con un pochino tranquillo ok volevo farti una domanda sul cosplay perché è un ambiente tu mi dicevi in pre-live che comunque sei abbastanza ferrato sul settore perché hai comunque molti amici che lo fanno però volevo avere una tua opinione sul cosplay e una tua opinione invece su come viene percepito anche dall'italiano medio anche quelle poche volte dove un cosplayer è stato invitato a programmi televisivi molto visitati molto in voga io ho già capito a cosa ti stai riferendo perché è una la cosa a cui pensano quando pensi al cosplay in televisione e non non so perché non so magari non voglio fare nomi né niente però fanno sempre una brutta figura ma come del resto qualunque persona che viene dal web la televisione odia il web lo teme quindi deve sempre dimostrare che quello che viene dal web è una roba iota le figure figuracce che hanno fatto certi cosplayer sono solo semplicemente perché hanno voluto che fossero figure di quel tipo anzi ti dirò di più li hanno fatti accedere a quei programmi proprio per prendere più il culo assolutamente ma la domanda mia è sapendo che è così e la cosa raramente cambierà perché accettare ovviamente visibilità ma che tipo di visibilità dipende è comunque visibilità a volte sai sai che c'è la frase che dice io non sono mai d'accordo però purtroppo è tristemente vera non esiste la cattiva pubblicità esiste la pubblicità e basta c'è gente che con la cattiva pubblicità ci ha creato un impero non gliene frega niente di quello che pensa la gente l'interprontante è che la gente parli di loro io non so se questi cosplayer poi ci sono cose anche simpatiche che sono in cui il cosplay era affrontato molto superficialmente però comunque solitamente solitamente in televisione le figuracce le fanno più che altro i cosplay maschi le cosplay donne no perché ovviamente in televisione molto spesso ti prendono lo stereotipo no perché il cosplay deve essere la cosplay femminile per quel poco che ne sanno le persone deve essere necessariamente una bellissima ragazza che mostra tanto del proprio corpo quando in realtà moltissime moltissime ragazze anche magari belle fanno dei cosplay assolutamente coperti di cui si vede più che altro la fattura del costume le prop che utilizza e secondo me la bellezza molti associano il cosplay alla bellezza sia maschi che femmine come se il cosplayer che accetti è quello bello ma secondo me è una cazzata è una gran cazzata purtroppo è la società in cui viviamo che tende a premiare il bello secondo i canoni della società perché quella bellezza è una cosa di canoni migliaia di anni fa lo sappiamo tutti un corpo più robusto corpulento era considerato molto più appetibile di un corpo magro perché era sinonimo di fertilità adesso invece piace il corpo curvilineo oppure l'addominale scolpito per gli uomini è tutta una questione di tempi che cambiano ovviamente ogni epoca ha la sua canone di bellezza i canoni di bellezza di 30 anni fa non sono quelli che accettiamo oggi negli anni 50 andava molto la pin up abbondante nelle forme adesso la pin up la chiamano curvi e sono tutti costrutti sociali che secondo me dovrebbero essere prima o poi dovranno essere secondo me non si riuscirà ma sarebbe bello se venissero abbattuti il cosplay è questo secondo me il cosplay è più una questione di sicurezza in se stessi cioè il fatto di aver fatto magari non hai un corpo per esempio a me da un fastidio quelli che dicono ah però con quel corpo lì non puoi fare quel coso ma chi cazzo l'ha detto ma se io ho fatto bene il costume se io ho fatto bene le prop ma perché non dovrei fare quel personaggio spiegami ma guarda come è fatto il costume non guardare come è il corpo ma anche se io ho studiato sull'interpretazione perché anche quello è molto importante quindi cioè nelle gare soprattutto no no sono d'accordo con te allora io ti dico la mia io sono molto cinico su questa cosa mi faccio nemici ovunque perché non ho problemi a dire la mia e infatti dagli organizzatori a tante altre persone non mi possono vedere ma me ne frego sinceramente scusate la parola però io ho tantissima stima del cosplay come concetto e ho una veramente pessima considerazione della community e del mondo cosplay recente se vuoi poi dico la mia anche dopo con è finito dico anche la mia su quello perché secondo me sarebbe da analizzare come fenomeno sociologico assolutamente recente perché una volta ovviamente era diverso per i appassionati ci incrociamo c'è un aggregante sociale su una passione comune adesso è diventato io dico l'immondezzaio degli altri settori ossia la modella che non riesce a sfondare nel campo della modella mi metto un costume succinto chi se ne frega se il personaggio non lo prevede mi butto sul cosplay il fotografo che non sfonda come fotografo vado dalla modella succinta cerco di sfondare grazie alle views della modella succinta che non fa cosplay ci sono tante le gare cosplay che mal gestite fatte da giurati non all'altezza organizzazioni non all'altezza e quindi alla fine poi si creano flame assurdi con quello ha fatto vince perché era amico dei tizio quindi cioè che il cosplay da molti venga concepito come tutto rosa e fiori e quanto di più falso vero è che è un'arte vero è che un qualcosa che si può fare a livello professionalmente ovviamente lo devi fare con serietà vero è che purtroppo a causa di questo tipo di persone che orbita si fanno sempre più consistenti in questo campo poi alla fine il cosplay essendo di nicchia si butta in televisione o comunque sui giornali e c'è il tizio che fa la figura è il cretino allora tutti i cosplayer sono cretini e psicopatici perché c'è stato il tizio vestito da Joker che ha sparato al cinema e quindi i cosplayer hanno problemi di personalità questo mi dispiace però sul fatto che la community più che community che il mondo cosplay stia diventando sempre più tossico per me è sacrosanta verità ecco cosa ne pensi di questo visto la cosa del gioco che ha sparato al cinema è proprio il terreno fertile per i media un atto terribile strumentalizzato in quella maniera dovrebbero vergognarsi sono morte delle persone e quello che emerge è i cosplay i cosplayer hanno problemi cioè veramente da persona tutti quelli che hanno sfruttato quella notizia per fare una cosa del genere dovrebbero vergognarsi è il modo più basso di fare giornalismo a parte quello la community dei cosplayer io ho notato che è molto divisa nel senso il punto è questo se fai cosplay come guarda non è tanto diverso da youtube chi fa questo tipo di cose si mette si mette davanti una videocamera per raccontare qualcosa fai cosplay lo fa perché c'è un fondo di esibizionismo e va benissimo siamo tutti un po' egocentrici siamo tutti un po' esibizionisti a chi non piace farsi sentire fare i complimenti io ho notato tanti cosplayer che c'è tanta invidia tanta malignità come in tutti questi ambiti qua quando quando tante persone un po' egocentrici che esibizionisti si incontrano non faranno mai community sono tante piccole isole che si scontrano non ho visto anche una parte di community sana non si può fare di tutta assolutamente persone però ho capito ho visto anche tanti atteggiamenti da prima donna per amor del cielo ci sono alcuni cosplay che veramente fanno delle cose pazzesche niente da dire perché comunque alla fine tu ti metti in mostra ma con qualcosa di fatto da te qualcosa che ti costruisci io ho visto delle prop delle armi strumenti di vari personaggi realizzati in una maniera incredibile incredibile cose che impiegano ore di lavoro prodotti artigianali è una cosa seria cioè alla fine come hai detto tu è arte perché alla fine ci sono persone che fanno io ho visto anche le armature le armature sono qualcosa di impressionante se poi vai a guardare cosa fanno in Giappone io alzo le mani cioè il cosplay viene come cultura viene dal Giappone di fatto è stata importata poi noi noi esseri umani siamo straordinari perché prendiamo in prestito la cultura e la trasformiamo secondo il nostro modo di vedere le cose secondo la nostra cultura il cosplay fatto in Italia fatto in Germania in Francia in Inghilterra in America è diverso dal cosplay fatto in Giappone l'ambiente del cosplay in Giappone è differente perché anche perché la maggior parte molti personaggi che vediamo fatti in cosplay vengono da loro sono molti anime molti poi non c'è solo quello voi fate l'esempio cosplay di personaggi che vengono dalla cultura statunitense quindi è un'altra cosa ancora però quello che voglio dire è che a me dispiace vedere molta invidia tra vari cosplayer ripeto non per fare tutta la buon fascio ma la percezione che ne è pubblica è quella i cosplayer sono degli isterici che si incazzano se non vincono la gara non è così non è per forza così però ho visto molto spesso anche quello quindi gli stereotipi hanno sempre un fondo di verità uno stereotipo si forma perché c'è un fondo che viene esagerato all'ennesima potenza però è vero che la community di cosplayer è spesso disunita è vero a me un po' dispiace però ripeto come anche in youtube è così perché perché alla fin fine l'esibizionismo di fondo che ti muove a fare quella cosa ti rovina devi essere sempre io ad esempio cerco sempre di collaborare perché quel poco che ho ottenuto non mi sembra giusto tenermelo stretto ok però sia su youtube che nell'ambito del cosplay noto che quando arrivi a un certo livello non lo vuoi condividere con nessuno perché è tuo l'hai creato tu sei solo tu non deve essere nessun altro ed è la cosa più stupida e sbagliata che possa succedere per fortuna non è così dappertutto ecco che belle parole cioè nel senso magari magari fosse come dici te nel senso io concordo in pieno su ogni parola a me è una cosa che fa sempre molto male è andare in fiera a vedere un personaggio un cosplayer magari non ai primi alle prime armi che fa lo stesso mio personaggio io guardarlo sorridente come per dire collega è lui che mi guarda in cagnesco perché gli frego le foto all'interno della piazza e le chiedono a me anche queste cose qua c'hai capito quella fa quella fa veramente male al cuore perché dovrebbe essere fare lo stesso personaggio dovrebbe essere un'occasione di condividere una passione comune quindi scambiare qualche chiacchiera magari io parlo con te tu carpisci qualche segreto mi guardi il costume mi chiedi come l'ho fatto io lo condivido cioè questo è la parte sana non il fatto che mi guardi io ho visto episodi sani di cosplay li ho visti però bisogna ammettere che c'è anche tanto un discorso di invidia ma perché perché poi è una cosa estremamente estetica e quindi ho visto persone confrontarsi con altri che avevano i propri costume di oh che bello che bello appena si giravano ma vaffanculo quello che ho fatto io è molto meglio guarda sei serio ma veramente ma che cazzo è come se incontrassi un collega youtuber grande grande poi si dice stomme ma no però ho visto anche persone che facevano l'opposto bello 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 e poi quando qual'altro andava fa cavolo che bello ma hai visto che bello perché erano sinceramente ammirati per quello che aveva fatto il collega però diciamo che forse molto spesso si vedono tanti esempi un po' più negativi proprio per quello che ho detto perché c'è tanto c'è l'esibizionismo di fondo attenzione l'esibizionismo non è per forza un difetto che male c'è essere esibizionista io sono cioè nel senso per fare lo youtuber devi essere un po' esibizionista no un pochino un po' egocentrico devi esserlo io non nego di essere un pochino però cerco di avere il senso della misura cerco di non credermi mai arrivato anche perché non sono arrivato da nessuna parte non è che ho fatto parlo davanti a una videocamera capirai però mi sono preso delle mie soddisfazioni che sicuramente mi porterò dietro per sempre spero che questa cosa non finisca tanto presto dovesse finire o avrò dei bei ricordi e mi farà piacere ricordare quel periodo in cui da giovine facevo lo youtuber l'influencer il creator secondo me il problema è credersi ecco il problema di tutto questo ambito youtube twitch cosplay è credersi arrivati ricordiamoci che a cagare al cesso ci andiamo tutti non siamo diversi ok ricordiamoci che avere la gente che ti ferma per fare la foto può far piacere ma non significa che sei arrivato da qualche parte e anche se sei arrivato da qualche parte non devi mai fermarti guardare dall'alto in basso le persone perché vuol dire che sei diventato uno stronzo questo è da prendere incorniciare attaccarselo in casa tu mi hai detto mi hai detto si può dire penso di sì hai specificato guarda noi non siamo un canale grande eccetera assolutamente no ma mi preme perché molto spesso a me non me ne frega un cazzo cioè davvero non me ne frega se non mi interessa canale grosso canale piccolo mi hai fatto una richiesta molto gentile io l'ho accolta molto ti dico anche di più io ho tolto la live di stasera non l'ho fatta l'ho anticipata ho tolto la rubrica per venire qua e lo faccio molto volentieri perché mi interessava il discorso di confrontarmi con delle persone nell'ambito del cosplay che è una cosa che non ho mai fatto pubblicamente mi piaceva l'idea e l'ho fatto molto volentieri l'ho fatto molto volentieri perché io credo nel collaborare con altre persone se uno ha una buona idea se uno ha una poi io vedo in chat una bellissima community quindi il canale magari non avrà mille spettatori però avete creato un qualcosa cioè io vedo del contenuto qua dentro vedo ci sono anche i meme interni quando funziona questo ovvio può piacere avere molti più spettatori ma anche se non ne hai molti di più guarda a volte è meglio avere numeri relativamente più piccoli piuttosto che numeri ampi che però non portano a nulla cioè finché tu trai soddisfazione da quello che fai andrà sempre benissimo molto meglio che avere migliaia di follower e sentirsi insoddisfatti io ti ringrazio molto davvero tanto di queste parole perché io ci ho tenuto a specificarlo e lo specifico con tutti perché ovviamente io sono molto fiero di quello che abbiamo creato ti dico la verità però ovviamente i numeri non sono grandi ma noi abbiamo una community veramente calorosa cioè noi abbiamo la mia community ad esempio vale più di qualunque la mia community si chiama Armino e quindi abbiamo anche un gruppo Telegram ci sono tante persone che su Instagram senza che io chiedessi niente si sono cambiati la biografia dandosi un nome under the hood taggandomi cioè e queste sono cose che per me valgono tanto però voglio specificare quello che hai fatto tu è una cosa molto interessante è una cosa che non molti fanno voi tu voi avete creato un brand quando si fa questo mestiere è brutissimo sembra una roba la Stanisla Rochelle però se vuoi puntare su te stessa devi diventare un brand tipo l'azienda io la fine della Telefunken non la faccio perché la frase sarà nota però avete hai brandizzato molti quando sono all'inizio con i numeri su una piattaforma non brandizzano perché ma poco poi sembra che me la tiro no è giusto perché il brand dà l'idea di essere qualcosa di forte già dall'inizio infatti ripeto per Twitch sono numeri tranquilli sono numeri che ti portano avanti ma poi io vedo la community qua in chat è calorosissima io li adoro io li adoro perché mi mostrano il loro affetto mi mostrano il loro affetto mi supportano in tutto quello che faccio quindi sono molto calorosi e io però ci tenevo a dirtelo perché comunque voglio essere chiaro fin da subito io non guardo mai i numeri io lo dico sempre io ho 10.000 follower su Instagram ma in realtà per me i veri follower sono 500 cioè io non conto cioè quello è un numero che rimane là ma per me sono i fidelizzati cioè per me sono le persone che tutti i giorni mi scrivono in privato che mi seguono che mi supportano sono quelli veri follower quindi i numeri servono per diciamo quando vuoi monetizzare l'attività perché le aziende guardano i numeri logico io ho visto aziende scegliere canali con molti numeri ma poi pochi follower veri non perché fossero comprati eccetera ma perché erano mi piace occasionali e rifiutare persone con community piccole ma fortissime che avrebbero molto avuto più presa sul prodotto non sempre le aziende lo capiscono la scelta è loro quindi alla fine alla fine comunque il pubblico è importantissimo perché le cose che si fanno in questo ambito le fai per il pubblico ed è il pubblico a sostenerti quindi il pubblico ha sempre la precedenza ha sempre la priorità è sempre la cosa più importante bisogna stare attenti a non diventare ostaggio del pubblico è un confine sottile cioè avere sempre comunque bene in mente che devi fare quello che dici tu accontentando anche il pubblico ma senza mai diventare ostaggio del pubblico perché la cosa più sbagliata è come quando si dice la major ha sbagliato ascoltare il pubblico tipo Game of Thrones hanno ascoltato il pubblico il fanservice è venuto fuori una merda il pubblico lo deve ascoltare quando però pensi che quella cosa che dicono funzioni se ti chiedono una cosa che per te non funziona a costo di magari dire no devi dire no è la cosa più difficile da fare devi capire quel confine oltre il quale non ti devi spingere però il pubblico è la cosa più importante in assoluto quando si fa questo mestiere no no io concordo infatti non so se hai visto io noi poi alla fine andiamo personalmente mi vado molto a sbilanciare cioè non mi piace io preferisco rinunciare a spettatori o rinunciare a follower però avere persone veramente affezionate cioè le persone che entrano in chat infastidiscono creano un ambiente tossico a me non piacciono io sono molto cattivo io ho smesso di essere gentile con gli imbecilli assolutamente quindi preferisco ho detto ai moderatori ragazzi non mi interessa cioè siamo anche noi quattro ma se dobbiamo essere in quattro sani con un ambiente sano perché io avere 100 imbecilli in chat molti mi dicono ignora queste persone io dico sempre no perché a un certo punto funziona sempre così una persona che si comporta in un certo modo viene sempre trattata con ignoralo ignoralo e non lo smetterà mai quando viene da me io lo metto davanti al suo essere maleducato e dico con me questa cosa non la fai mi incazzo lo blocco e poi molto spesso mi vengono a chiedere scusa perché fino a quel momento non hanno mai trovato una persona che gli dicesse panapano e vino al vino e dicevano ma sì tutti lascialo perdere ignorano no se li ignori questi continueranno sempre un minimo devi se non ti sai comportare e vieni da me io ti faccio vedere io come ci si conti ti dico io come mi comporto io con quelli che non si sanno comportare e spesso vengono a chiedere scusa perché non avevano magari mai trovato qualcuno che si incazzasse sempre nella giusta misura e attenzione però se sei maleducato se sei troll se sei una persona che non ha niente da fare e preferisce tormentare gli altri allora se viene a me quei due minuti per farti un discorso te li faccio poi magari va nel vuoto spesso funziona sempre rimanendo sempre nei ranghi senza mai eccedere ovvio perché quello è sbagliato se no vai dall'altra parte però no no assolutamente poi voglio dire a me il cosplay ha portato nonostante i numeri tante belle soddisfazioni anche perché io ho deciso di non non vendermi al sistema nel senso ho sempre rifiutato quello che non mi piaceva ho sempre ho sempre detto io per me valgo tot quindi sotto quello non sono risposto a scendere come richieste anche come io ho rinunciato a lavori strapagati perché non mi piaceva essere accostato a quel tipo di organizzazione come la pensavo assolutamente perché tanti soldi sono una cosa che va e viene la dignità la credibilità no quella è una volta che le hai perse le hai perse bravissimo bravissimo preferisco avere qualche euro in meno ma mantenere il mio livello di dignità bravissimo mai scendere sotto un certo livello perché altrimenti bravissimo bravissimo e nonostante tutto io comunque ringrazio le persone che mi seguono calorosamente perché proprio grazie a loro magari ti faccio un esempio stupido mi hanno segnalato alla costumista di The Boys e la costumista di The Boys abbiamo iniziato a parlare mi ha fatto dei complimenti incredibili sul costume e mi segue e mi segue ho avuto una chiamata di 20 minuti con Anthony Starr e Jack Quaid che me l'hanno richiesta complimenti quindi cioè ancora deve esordire quel costume e questo lo devo molto anche grazie a loro cioè se non mi segnalano Anthony Starr ha esordito dicendo io ti conosco mi hanno parlato di te io ho visto le tue foto finalmente ci conosciamo cioè lì io sono io penso che sarei morto mi sono squagliata complimenti vedi queste soddisfazioni sono meglio di qualunque altro placement che puoi fare con una grande le porto qua le porto qua veramente sempre con me quello che ti dicevo magari un giorno questa cosa finisce mi auguro di no magari la vita si cambia eccetera però ti porterai sempre dietro a quel momento in cui entri e mi è stata detto che ti conosceva sono soddisfazioni per qualcosa che hai fatto tu con le tue mani che hai fatto tu da solo cioè poi col tuo team sì con il mio team di maker però capisci che sono soddisfazioni assolutamente infatti io me la sono me la sono registrata ogni tanto me la guardo e c'è stato un pezzo di quella videochiamata per dirti che persona umili cioè persone veramente importanti umili dove mi ha guardato mi ha fatto una marea di complimenti ha detto quel costume e te lo dico io che l'ho indossato è quasi la perfezione la madonna che bello detto da Anthony Starr che è un personaggio che tu interpreti non perché voglio far soldi ma per sì me l'ha chiesto magari l'agenzia che lavora per Prime però l'ho deciso di farlo perché mi piace detto da una persona così che interpreta e dà vita a quel personaggio per me è una soddisfazione molto più grande di qualsiasi coppa in una gara cosplay sono assolutamente d'accordo con te quindi no mi fa piacere innanzitutto che ho accettato di essere qui ti ringrazio anche per le belle parole perché per noi significano molto e stiamo cercando di offrire diciamo dei contenuti innanzitutto a livello cosplay perché è il nostro ambito e poi di allargarli perché ci piace ci piace avere una contenuti diciamo non voglio essere supponente però di una certa qualità con una community che è sana che è sana a prescindere poi da qualsiasi risultato tu posso da fare con me grazie Vittor allora sono due ore e mezza e andrei in chiusura ci aspettiamo 30 secondi Mauro eh? 30 secondi di che? perché? eh chissà perché ah raga è il mio compleanno tra 30 secondi oh oh è vero me lo stavo completamente dimenticato dai 30 secondi così io non lo sapevo ma mi stavo scordando anche io cioè ragazzi è vero tra 30 secondi è il mio compleanno il 5 gennaio eh ragazzi penso penso questo giriamo con una doppia live perché questa finirà a mezzanotte e poi abbiamo la precedente alle 9 e mezza va bene va bene però sono contento sono contento di passarlo con voi intanto mi prendo questi minuti per andare in chiusura per salutare Victor per ringraziarlo e dirti che veramente ehm io io ti dico la verità non non ti conoscevo moltissimo mi hanno sempre parlato benissimo di te e da da un mesetto ho iniziato a guardarti molto a seguirti ma io non ti sei è un piacere grazie e veramente tanta stima per quello che fai perché ehm contenuti di qualità dove uno dice la propria senza nascondersi però essendo comunque rispettoso è veramente molto difficile e questo tanto ti faccio gli auguri visto che mezzanotte grazie grazie ragazzi Chiara Tola dai ti non so come chiamarti amore no 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 vabbè Tola grazie mille Gic Cicci ora ragazzi carasso grazie ragazzi grazie mille non ci vuole il coraggio di mattina eh lo so e per quello ha tanta stima cioè persone che dicono la propria nel modo in cui lo fa lui e non lo dico tanto perché in chat perché io ho avuto persone live che gliene ho dette peste e corna ma io ho imparato che guarda io ho avuto tanti problemi quando ero ragazzo perché sono nato in una città che è una cittadina di provincia ma essendo a Rona su Lago Maggiore essendo turistica è comunque sembra Rimini se tutto l'anno tipo la domenica non cammini sul corso sul budello non ci cammini e come tutte le città di provincia un po' più piccole cioè poi comunque abbiamo 20.000 abitanti quindi non è proprio minuscola è vicino a Milano perché ha il confine con la Lombardia anche se in Piemonte quindi insomma però come tutte le città di provincia c'è un po' una mentalità un pochino chiusa e io da ragazzino sono sempre stato come mi vedi adesso solo con i capelli più corti più magro però ero quello considerato sfigatino e io ho avuto un periodo in cui per qua erano tutti quelli che comunemente si dicono tamarri i vestiti con i richmond che andavano una volta e anche io mi adeguavo anche se non era era proprio come insieme a sassi una pelle che non era mia e anche a livello di pensiero mi adeguavo al pensiero della gente ma mi faceva schifo perché non era quello che pensavo io a un certo punto mi sono detto ma tanto perché ti devi far accettare ho detto devi essere te stesso quindi io cerco sempre di dire la mia sempre rispettosamente perché tanto alla fine dire quello che gli altri vogliono sentirsi dire non serve a niente la cosa anche se ti considerano quello strano ma a me non me ne frega più cioè me ne fregavo una volta quando ero ragazzino adesso non me ne frega più niente posso sembrare strano magari se dico qualcosa bene a fare i tuoi cioè io sono come sono e quindi cerco sempre di dire la mia senza filtri ma sempre con rispetto perché comunque quello è la cosa più importante assolutamente questo si vede quindi ancora complimenti ragazzi grazie mille per gli auguri Karasu Sart ti fa molti complimenti colonna portante di youtube lo ringrazio perché lui mi ha fatto un bellissimo disegno in stile Tim Burton quindi lo ringrazio l'ha scritto prima non sapevo fosse lui quindi grazie veramente ah bene bene mi fa piacere allora ragazzi grazie mille ai nuovi follower grazie mille a Victor grazie ovviamente ai moderatori e a Gik che non c'è però lo ringraziamo e Lucio e Andrea che sono stati con me ci vediamo domani episodio dell'Avisalotto mi raccomando seguite se non lo fate ancora seguite Victor perché ve lo assicuro io e non mi espongo quasi mai non ve ne pentirete grazie veramente figurati figurati ragazzi buonanotte a tutti grazie ancora ci vediamo domani buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti